Buonasera, buonasera. Ciao a tutti e subito un grazie a Luke 030120 che inizia... In nanosecondo si abbona. Esatto, augura la chat con dieci mesi di abbonamento con Prime, quindi lo ringraziamo. Siamo qua per un'altra delle nostre live settimanali, questa settimana torna il ciclo The Walking Heads, dove noi ospitiamo altri divulgatori, altre persone che si vengono a fare dell'internet un posto migliore e questa sera abbiamo con noi Giacomo Panozzo, studente di storia all'Università di Milano e divulgatore in ambito storico, principalmente attivo su TikTok o forse solo su TikTok. C'è qualcosina su YouTube, sto puntando adesso, mi butto anche lì. Con questo suo format che si chiama Un tuffo nel passato. Allora, innanzitutto benvenuto Giacomo. Grazie, insomma, stavo per dire benvenuti a voi, però siete di casa, per cui benvenuti da che? Per cui, grazie, ciao a tutti. Ci sono anche io stasera. Sì, stasera c'è anche Luisa perché questa live è in realtà una sua iniziativa, nel senso che lei è quella che segue principalmente... Sì, sono quella che fa i video cringe su TikTok e quindi incontra altre persone che hanno la stessa passione di fare video cringe su TikTok e se non sono... Il cringe è la cosa più sottovalutata di sempre. Abbracciamo il cringe, embrace il cringe. E lei che segue Giacomo, è lei che ha avuto l'idea di invitarlo, è lei che lo ha contattato, si è messa d'accordo, insomma, per la data e tutto quanto. Io qua sono solo padrone di casa, tra virgolette. Non ha fatto niente, lui. Ma, in realtà, esatto, la conversazione sarà principalmente tra di loro. Allora, innanzitutto, Giacomo, raccontaci un attimo di te. Come ti è venuto di aprire il canale TikTok? Cosa studi? Perché è vero che storia è una materia molto vasta, no? Poi in realtà ci sono delle aree, generalmente, no? Quindi di che parte della storia ti occupi? E come ti è venuto di aprire questo canale? Allora, beh, in realtà, sì, come dici tu, appunto, storia è impossibile studiarla tutta. Ovviamente ci si settorializza su alcuni periodi, ovviamente anche questi periodi scansionati in base a, insomma, quello che decidiamo noi in base a ciò che stiamo studiando, per cui anche lì, insomma, vai a vedere. E quindi fondamentalmente io studio storia contemporanea, si parla 800 e 900, come secoli presi in considerazione, ed è una passione che mi è nata, ed è anche il motivo per cui ho cominciato a fare video, perché a me, in primis, la storia annoiava come un matto. Quando ero a liceo, quando studiavo, non mi piaceva. E in realtà la noia alle volte serve un sacco da quel punto di vista, perché ho detto ma cavolo, è una materia così interessante, che potenzialmente può essere veramente pazzesca per tutto quello che ha da raccontare, per tutto quello che ci può insegnare, per tutto quello che può farci leggere del presente. Come mai non mi piace? Come mai mi annoia? E a quel punto ho cominciato a capire che forse l'avevo sempre studiata, o me l'avevano sempre fatta imparare in maniera un pochettino strana, un pochettino noiosa, appunto. E quindi ho cercato un mio metodo per studiarlo, ho cercato un mio metodo per impararla, e ho detto ma perché questo metodo non lo si condivide, non lo si fa proprio anche per gli altri, che può essere un po' la cosa più bella che uno può fare quando trova un metodo bello per imparare qualcosa, farlo presente a tutti. E quindi io ho detto perché no, proviamoci. E quindi figlio della quarantena, anch'io, ho cominciato da casa quando si era tutti chiusi a fare qualcosina. Ovviamente lì era proprio goliardia, qualcosa di una qualità infima e tremenda, però sempre di più ho cercato di portare avanti questa idea di un racconto storico che è proprio un racconto, perché la storia è una storia. È una storia solo che ha la S maiuscola e solo che sono cose successe davvero. E quindi io me la sono sempre vissuta come una serie tv. E studiarla come una serie tv, con le sue stagioni, con i suoi episodi, i suoi personaggi che poi tornano e tradiscono questi, vanno avanti. A me ha sempre appassionato. E tant'è che io all'università ho fatto i corsi universitari in ordine cronologico, così non mi spoileravo niente delle stagioni intensive, ma perché un pazzo malato io. Non preoccupavi gente degli anni successivi? Esattamente. No, perché ho detto, ma cavolo, è bella perché è tutto collegato, è tutta una concatenazione. E quindi ho detto, vai, proviamoci. E insomma, è andata per quello che posso fare. Adesso quanti follower hai, giusto per tirarcela un po' allora? Oh, Dio, stai facendo 290.000? Intorno all'inizio, TikTok. Eh, Paoli, forse è uno dei canali di storia più grandi, almeno su TikTok in italiano. Sì, è uno dei canali di storia a cui non funziona la videocamera, tra l'altro. Porco cane! Poicottato. Allora, io approfitto della tua videocamera spenda per ringraziare Montemirco che si è abbonato per sette mesi e Alex93 che si è abbonato addirittura per undici mesi. Grazie, ragazzi. Grazie, ragazzi. Mi raccomando, continuate ad abbonarvi o a rinnovare quantomeno gli abbonamenti. E poi ci arrivano le critiche, usate un microfono migliore. Eh, adesso c'è da dire che se non ci sentite tanto bene, non lo so com'è l'audio dalla chat, perché siamo qui in trasferta. Ecco, tra l'altro, se notate che la qualità audio e video è diversa dal solito è perché siamo sul computer di Luisa e, come dire, connessi dall'Oxport del telefono a Padova, perché domani andiamo in visita al consorzio RFX. Per cui, se non ci sono i soliti episodi di lag, vuol dire che il problema o è la connessione di casa mia o è il mio PC. Quindi faremo poi delle altre prove. Ma torniamo a Giacomo che ha il suo format un tuffo nel passato. Sono dei video di tre minuti dove racconti degli episodi un po' di nicchia, magari un po' meno noti, un po' meno mainstream rispetto a quelli che si studiano. No, io avevo visto il tuo video sulla propaganda di guerra americana fatta su Topolino. Ah, sì. Sì, 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 sì. Però fa la voce di Topolino benissimo. Io ho questo grande superpotere, ma che sì, me lo porto dietro da quando ero alle medie, questa cosa. Per cui, sì. Curricolare. Ma magari c'è una dimostrazione live, no? Con questo bel raffreddore secondo me è qualcosa di tremendo, per cui può essere interessante. Facciamo improvvisazioni sempre. Però appunto sono... Diciamo sì, superentivo! Ecco, finito. Perfetto. Buonanotte! Ciao a tutti! Tremendo. Strauguale. Non avevamo del cringe, no? Prima. Esatto, esatto. In realtà queste cose su TikTok piacciono. Cioè, tu hai tanti follower su TikTok e avevi esordito dicendo che la qualità all'inizio faceva cagarino. E in realtà su TikTok questa cosa piace. A TikTok, come se ragazzi hanno detto, piace il contenuto un po' fatto male, casereccio. Cioè, vediamo anche brand che iniziano a fare queste pubblicità usando il modello di CapCut per il Titanic, con la musica del Titanic. E fanno milioni e milioni di views, ma brand che fanno queste cose qua. Perché al ragazzo più giovane, generazione Z, sta un po' rifiutando il patinato, diciamo, il fatto bene, il mega budget. E sta andando a guardare cose un pochino più di nicchia fatte da gente che ritiene relatable. E forse anche c'è questo piccolo ingrediente del relatable. Questa è una bella visione, anche se io in realtà sfido un sacco TikTok da quel punto di vista. Perché moltissime persone mi dicono, ma guarda che i tuoi video non sono da TikTok. E io gli dico sempre, ma sti cazzi? Cioè, nel senso, l'idea è quella. Ma perché? Perché appunto sono video da tre minuti, ma se sono corti. Cioè, sono arrivato ai 6-7 tranquillamente, in realtà. Ed è una sfida che io mi sono posto un pochettino. Perché è una cosa che io ho notato, confrontandomi con tantissimi ragazzi, ancora più giovani di me. Per il fatto che la soglia dell'attenzione si sta un sacco abbassando. Va tanto. Cioè, proprio che già un video che dura due, tre minuti, non lo segui. Perché dura due, tre minuti? Ed è tantissimo. E uno dice, vabbè, ok. E lo vedi anche nelle conversazioni in real life, no? Che uno magari è lì al bar, gli stai parlando, lui ti ascolta, ma dopo un po' la sole dell'attenzione è persa. E quindi è un po' una sfida che mi sono lanciato. Un social veloce, dinamico come TikTok, proviamo a buttarci dentro qualcosa di un pochettino più lungo, più discorsivo. Tant'è che non ho mai ricevuto persone che mi dicono, no, vabbè, è troppo lungo, chi lo segue. Anzi, persone che mi hanno detto non pensavo potessi fermarmi a guardare un video di cinque minuti, che è una cosa bellissima. Ma infatti, allora, di recente si sta iniziando a parlare molto di questa cosa, del fatto che la soglia d'attenzione è bassa, vabbè, se ne parla da tantissimo. Ma ci sono proprio delle strategie di marketing che cercano di, visto che l'algoritmo di TikTok premia la permanenza sul video e ti busta il video, in base a quanto, rispetto alla lunghezza del video, la gente resta sul tuo video. Vedi, io non la so. Allora, la gente sta studiando delle strategie di marketing, per cui all'interno dello stesso video devono dare l'impressione di stare scrollando su TikTok. Quindi, tipo, fanno tantissime clip, un po' diverse una dall'altra, molto più veloci, con ritmi diversi, in modo da dare l'impressione al cervello di stare, cioè, la stessa sensazione dello scroll. Quindi, tanti video diversi. E, secondo me, il tuo video, un pochino quello lo fanno inconsciamente. Cioè, hai dei cambi di ritmo, hai dei cambi magari anche di inquadratura, fai dei bianchi e neri, fai una serie di cose che danno l'impressione di stare, in realtà, guardando più video che uno. E quindi non scrolli via, resti a guardarlo, anche se è più lungo. Pensa che ho fatto questa cosa senza neanche... Eh? Che grande! Eh, io lì, quando uno è bravo. Allora, intanto, per WLK Fulzer, che chiede come si chiama il canale di Pannozzo, il canale di Pannozzo su TikTok si chiama Un tuffo nel passato. No, no, si chiama... No, scherzavo. No, si chiama... Si chiama come me, è molto facile. Ah, ok. La rubrica si chiama... La rubrica Un tuffo nel passato, il canale si chiama Giacomo Pannozzo. Esatto. E' molto, è molto facile, nome e cognome, che così non ci si sbaglia. Qualcuno dice, poi è strano il successo di questo format su TikTok, considerando l'esplosione dei podcast. In realtà non è così strano, perché i podcast, come gli audiolibri, sono cose che ascolti mentre fai altro. Cioè, mentre guidi, mentre fai un lavoro manuale, che magari non richiede particolare attenzione, ti ascolti il podcast. Ho una mia amica che li ascolta mentre pulisce casa, tipicamente. Non si mette un podcast, un'oretta. Anche tua mamma, mi sa. E anche mia madre, forse. Ma me lo faccio anch'io, regà. Cioè, può avere subito. No, e invece il video, invece il video non lo puoi vedere mentre fai altro, perché richiede la tua attenzione, diciamo. E soprattutto TikTok è stronzino in questo senso, perché ti costringe a swipare proprio fisicamente tu. Cioè, non è che ti fa un flusso continuo, sei tu che devi stare lì a dare l'input. Però, secondo me, i suoi video sono belli perché fanno questa cosa che adesso la gente sta cercando di fare apposta. Cioè, diversificare proprio all'interno del video e far sembrare, dare al cervello quella, quello boost di, come si chiama, non è ossitocina, non è serotonina. E l'altro? Dopamina. Serotonina. Dopamina, giusto. Che ti dà proprio la sensazione dello swipe. Quindi, bravo. Anisco dopamina senza saperlo. Evviva. Ho scoperto qualcosa di nuovo. E poi ha questo atteggiamento positivo, molto soridente, che tra l'altro ti ha fatto, ti ha dato, come dire, questo regalo su di non avere hater. Cioè, io, la prima volta, mi inchino perché non hai... Adesso magari... Già solo perché sei stato nostro ospite e sappi che stai rischiando qualcosa. Ma sono contentissimo di prendermi questo rischio. Assolutamente. No, poi sono divertenti comunque. I hater, a volte, danno soddisfazioni che... Ma visto che a me chiedono sempre, quando io vado ospedale, mi chiedono qual è il tuo reattore nucleare preferito, allora qual è il tuo periodo storico preferito? Nel senso, di tutto ciò che studi, c'è un periodo, un decennio, un anno, che ti trovi particolarmente... Un giorno. Interessante. Allora, no, ti posso dire il secolo, se vuoi, ma riassumerlo. In poco è difficile. Io sono da sempre appassionato dell'Ottocento, tantissimo, del XIX secolo, perché... E veramente ho letto troppa roba, troppa roba, ma perché io la vedo un sacco l'Ottocento come la nascita del mondo che noi stiamo vivendo adesso, di un mondo industrializzato, di un mondo con una certa dimensione economica, dove sono nate le varie dottrine politiche che noi adesso vediamo, dove ci sono state le conseguenze della rivoluzione francese, che ancora adesso vediamo nelle forme politiche esistenti. L'Ottocento è un po' la culla della modernità, intesa come quella che consideriamo noi adesso, e parlando, tornando appunto alle serie TV della storia, studiarsi l'Ottocento è come guardarsi quella serie TV, quella stagione della serie TV, che non va troppo indietro nel passato e che ti fa capire quella che stai guardando adesso. Se noi adesso stiamo guardando la ventunesima stagione, guardarsi la diciannovesima è un buon punto di partenza per riuscire a capire bene la ventunesima. Quindi l'Ottocento mi piace un sacco proprio perché è un po' la nascita di tutto il mondo che stiamo vivendo adesso. Se ti devo proprio trovare un anno bello specifico, il 48, ma perché è successo un casino. Beh, tanto che si usa ancora, non si usa più, è un po' caduta in disuso, ma ancora i miei genitori utilizzavano l'esposizione. Io, santissimo, cos'è successo? E adesso ogni tanto diventa verde. Ogni tanto divento verde, quando mi arrabbio. Dicevo, l'espressione fare un 48 è un'espressione che si usa ancora, o meno, la generazione dei miei genitori l'osema ancora. E si riferisce al 1848, perché il 1948 non è stato particolarmente un anno. Ma la cosa bella della storia è che io l'ho realizzato, tra l'altro, un po' di giorni fa mentre ero a cena con degli amici. Io sopravvivo, parlando di storia, perché la gente scazza tra di loro. Cioè, se non ci fossero state conflitti, quando la gente vivesse benissimo in pazzo, io sarei disoccupatissimo. Per cui il 48 è una manna dal cielo, perché è capitato di tutto, e io sto contento perché, ok, vai a vedere le cose. Quindi tu hai un bel canale grazie agli hater, ma non hai gli hater. No, io ho un bel canale grazie agli hater del passato. Capisci che... Wow. No, però da quel punto di vista è proprio interessante andarsi a guardare le vecchie stagioni per capire quella di adesso. È una cosa che mi ha sempre interessato e mi è sempre piaciuto, perché si dice sempre, guarda la storia per capire il futuro. Secondo me questa è un po' una cagata, se posso sbilanciarmi, perché la storia, a mio parere, non è mai ciclica e non torna mai indietro nello stesso modo. Ci sono sempre fattori e persone differenti. Però la storia può aiutarti a capire il presente e quello che sta succedendo, andando un po' a guardare indietro quello che è successo. Perché sta succedendo in Ucraina quello che è successo? Per questo, questo motivo. Perché in Afghanistan nel 2021 è successo quello che è successo? Perché nella seconda metà? e vai un po' a capire quello che è successo e ti fai un'idea. Serve per capire il mondo che ti sta attorno. E questa è una cosa che secondo me è veramente utile, che molto poco si parla della storia in questo verso. Sì, effettivamente se ci fosse, non so, parlavamo prima privato, diciamo, dei modi che si potrebbero elaborare per raccontare meglio la storia, per coinvolgere meglio le persone. E se effettivamente metti che nelle scuole si finanziassero, non so, delle serie tv di storia da mandare nelle scuole, diciamo, come materiale da studiare. Non sarebbe... Ci sono già delle serie tv storiche abbastanza accurate. Sì, però non è una cosa sistemica, diciamo, di sistematica. A me fa sempre ridere una cosa delle serie tv storiche, tipo i medici, che sono tutti bellissimi, sono degli adoni, sono delle persone incredibili. Poi vai veramente a vedere magari un quadro di come era Cosimo de' Medici, era boh, tremendo, cioè era bruttissimo. Sì, c'è anche i canoni di bellezza di allora, cioè era... No, certo, però è una cosa che gli fa sempre ridere, perché tu vedi questi che sono bellissimi, e poi vai a vederli in realtà e dici... Sì, cacchio è, però... Vabbè, quelle sono esigenze sceniche, diciamo, che servono ad attirare al pubblico che non è magari appassionato di storia, però vede il manzo o la scuola. Certo, la buona... No, e come tra l'altro, ho la chat sotto mano qui a destra, ed è super interessante un commento che dice sicuramente più interessante di imparare dati, nomi a memoria. È un po' quello che a me annoiava della storia quando ero a scuola, perché veramente la storia era qualcosa di mnemonico, no? Tu hai la data e c'è l'evento, data, evento, data, evento, data... Qualcosa che magari studi per un esame, una verifica, una prova, e poi tabula rasa che mi serve più. Ciao, grazie. Tant'è che io ho una memoria tremenda. Cioè, io mi ricordo le cose, non mi ricordo niente, faccio un po' schifo, sono una pippa. Ma non è che mi ha mai... Ecco, grazie. Non mi ha mai dato dei problemi riguardo alla storia, perché la storia, secondo me, non è una cosa che devi studiare data, evento, data, evento, data, evento. È una concatenazione di cose. Per cui, se io non mi ricordo la data precisa di un evento, però so collocarlo in una sorta di linea del tempo, allora so che se succede questa cosa, deve essere per forza successa prima di questa e dopo di questa. Per forza, perché altrimenti non si spiegano le altre due cose. E allora la colloco lì. È una concatenazione di causa-effetto. Ogni cosa va sempre a addossarsi sull'altra. E quindi, no, c'è proprio l'insegnamento che secondo me è sempre stato un pochettino trascurato da quel punto di vista. Sì, cioè, se uno dovesse, come dire, portare all'osso che cos'è l'insegnamento della storia, cioè, quando lo potresti ritenere di successo? Quando la gente si ricorda perché sono successe le cose? E quello magari è uno strumento per poi riuscire a collocarlo in un certo periodo temporale. Ma è un po' come quando io mi chiedo, io sono linguista, ho fatto mediazione linguistica, poi questa roba che sto facendo adesso... No, non si sa bene perché. Però quando mi rifletto su quando puoi dirti di aver avuto successo, diciamo, nel imparare una lingua e quando sai perfettamente la grammatica, ovviamente se sai perfettamente la grammatica, eccetera, se sai parlare come un native, va bene, vuol dire che l'hai imparata. Però, qual è lo scheletro della lingua? La lingua è una cosa che ti serve per comunicare. Quando sei in grado di comunicare? Quando sai la grammatica o quando sai i termini? E la risposta, cioè, io che ho imparato dopo aver studiato lingue, fatto lingua all'università, è quando io sai i termini. Cioè, tu potresti impararti una serie di vocaboli in tedesco, potresti non sapere la grammatica, ma sapresti comunicare. Cioè, se tu dici, io ieri mangiare carne, si capisce che è successo nel passato, l'intento comunicativo, il messaggio è passato e sei riuscito, come dire, a utilizzare in maniera successful una lingua. E così la storia. Cioè, la storia la sai quando sai mettere in relazione le cose, non quando sai le date. Non lo so, io... Effettivamente le date erano le poche cose che facevo sempre fatica a ricordarmi. Io invece la memoria ce l'ho piuttosto buona. Però non... No, ma guarda che io ho ancora tantissime difficoltà su alcune date. Poi quelle specifiche, è chiaro che dopo un po' che gira e rigira le sai, perché le sai. Ma le sai per reiterazione, perché continui a leggerle, continui a studiarle e dopo un po' entrano di default. Però, su alcune cose minori o così, ma io stesso non ti so dire la data precisa. Però, sai, lì si trova, no? Perché deve essere per forza capitata lì. Ma basta questo, perché... Chi se ne frega se Cristoforo Colombo ha scoperto l'America nel 1492 o nel 1491, da quel punto di vista? Cioè, basta che lo sai collocare. Perché ha scoperto l'America? Quando? Ovviamente non puoi dirmi nel 2014, perché sarebbe un problema. Però, insomma, l'importante è altro, da quel punto di vista. Non proprio, sai, oddio, no, ho sbagliato un numero! Che alla fine, poi i numeri... Cioè, un frate, si chiamava Dionigi il Piccolo, nell'Alto Medioevo, ha preso la Bibbia, ha detto, adesso scopriamo quando è nato Gesù. Ha fatto un po' di calcoli tramite la Bibbia, ha detto, ottimo, l'anno zero è il 754 dalla Fondazione di Roma. A posto. Questo vuol dire che noi potremmo essere tranquillamente nel 2032 o nel 2012, oggi. L'ha fatto questo tizio, però. Cioè, capisci che le date sono molto... Sì, c'è evidenza, ad oggi, diciamo che, gli astronomi ritengono che la data dovrebbe essere, mi sembra, il 7 dopo Cristo. Cioè, il 7 dopo Cristo dovrebbe essere l'anno zero, perché hanno ricostruito i movimenti della cometa, supponendo che la cometa di cui parla la Bibbia sia la cometa di Halley, che è una cometa periodica, potrebbe essere quello. Però, in realtà, potrebbe anche essere una supernova, quindi una stella nuova comparsa nel cielo per un breve periodo di tempo e allora sarebbe un'altra. Sì, ma è tutto un po' un costrutto e noi ci stiamo qui a fare le pippe a quattro mani, scusatemi l'immagine, adesso vi ho stampato in testa, su delle cose che però veramente lasciano veramente il tempo che trovano, purtroppo, e quindi a volte ci si arrovella su questioni assolutamente inutili, secondo me. Qua in chat dicono nel dubbio viva le centrali a carbone. Cioè che è un po' la stessa cosa, come dire, questa capacità di mettere in relazione le cose, magari temporalmente, quando si studia storia. Cioè, è un po' lo stesso ragionamento necessario a capire cause e conseguenze di cose tipo perché in Germania adesso stanno protestando contro l'espansione della miniera di Garzweiler di carbone. È perché sono successe una serie di cose per cui si deve tenere aperta e, come dire, allargare questa miniera qua. Quali sono le cause? E metti insieme i puntini. Credo che la conversazione sia partita all'esimo che scrive l'insegnamento che l'umanità non impara mai dalla storia e ripete sempre gli stessi schemi e uno sotto che risponde verdi di merda. Gruner Scheiss che si scrive con la S.C.H. Ma allora ti faccio una domanda alla mia curiosità perché io ho fatto in passato una live molto bella e dove io ho imparato un sacco di cose col canale Accademia dei Pugni. Non so se li conosci. Ok, ho sentito, sì, ho sentito il nome. Sono due storici e un archeologo che parlano anche loro di storia su YouTube. Sono un canale abbastanza piccolino, credo abbiano 10.000 iscritti o una cosa del genere. Però la live è stata molto interessante perché abbiamo parlato un po' della storia della fisica nella prima metà del Novecento perché alla fine la storia della scienza ha dei momenti molto affascinanti, soprattutto la storia della scienza moderna perché si intreccia molto con la storia vera e propria. Per cui abbiamo per esempio parlato del gruppo dei ragazzi di Via Panisperna, il gruppo di ricerca di Enrico Fermi al Regio di Fisica di Roma che era coordinato da questo Orso Mario Corbino che era un ministro fascista, però era un ministro fascista con delle qualità da manager che per l'epoca erano comunque fuori dal comune che quindi è stato capace di fornire a Enrico Fermi tutto quello che gli serviva per portare avanti un lavoro pionieristico sulla ricerca nucleare che altrimenti non ci sarebbe stato e poi da come da lì si è poi arrivati al progetto Manhattan e a tutto quello che è seguito. Tu ti sei mai interessato di questi collegamenti ecco tra la storia e la storia della scienza? Allora io ho fatto parto da questo presupposto ho fatto un liceo scientifico ed era una pippa incredibile in fisica e matematica mi piaceva però non mi mettevo mai lì a farla e quindi ho detto no non ce la faccio e quindi da lì un po' l'ho abbandonata e tant'è che purtroppo non ho mai approfondito questa cosa pur appassionandomici però mi è sempre piaciuto di più affrontare la storia da un punto di vista politico istituzionale e soprattutto bellico da un certo punto di vista e quindi guardo più una sorta di politica internazionale storica piuttosto che a una storia della scienza in generale per cui qui ti posso dire purtroppo no e ne so veramente poco tra l'altro la stessa domanda l'ha fatta Ace Cronk che chiedeva appunto se ti appassionano vicende come la competizione tra Tesla e Edison ah ok purtroppo non l'ho mai approfondito quell'aspetto lì no purtroppo no purtroppo no anche se qui torniamo all'idea di vedi che non sopravviverei senza competizioni e senza gente che si smatta tra di loro è una cosa sempre bellina però purtroppo no purtroppo non l'ho mai approfondito tra l'altro adesso dovrebbe uscire un film che andremo a vedere anche noi su Openheimer eh sì Openheimer e quello magari Nolan cioè ragazzi io sono fomentatissimo da quel film ma anche come si chiama l'attore Killian Murphy Killian Murphy sì allora a lei piace molto Killian Murphy però mi dice alla memoria però io ho un po' paura di che cosa insomma potrebbero fare al povero Openheimer quali sono i rischi cioè rispetto alla sua figura no ma lì ma lì ma infatti io volevo farvi una domanda a voi ma secondo voi cosa raccontano in quel film cioè qual è il fulcro della storia perché alla fine te lo fanno sembrare come un film no ma allora il fatto è questo Openheimer è stata una persona molto tormentata che è stato un grandissimo scienziato è stato sia prima sia dopo il progetto Manhattan ha fatto delle dei lavori molto importanti sia in meccanica quantistica dove per esempio ha inventato quella che si chiama approssimazione Born-Openheimer che è bene o male lo strumento matematico che ti consente di passare dal reame della meccanica quantistica a quello della chimica quindi è uno strumento molto molto importante sia dopo il progetto Manhattan quando iniziò a lavorare sull'astronomia ed è quello che ha ed è stato il primo a spiegare come collassano le stelle di grandi dimensioni rotanti perché prima c'era il modello di collasso stellare per stelle che stavano ferme su se stesse in rotazione entra il gioco in un momento angolare e quant'altro però ovviamente la sua eredità storica e lui lo sapeva benissimo e non era contento di questa cosa cioè il suo nome passerà alla storia come il padre della bomba atomica certo certo e lui come dire soffriva per questa cosa soffriva perché sarebbe stato ricordato come morte il distruttore di mondi la famosa citazione che a sua volta riprende un testo sacro indiano e non come uno scienziato che si è trovato in un momento storico particolare a dover fare un lavoro per il suo paese per il quale oltretutto non è che il suo paese lo abbia esattamente ringraziato perché lui era poi di sinistra socialista e negli anni 50 negli anni del macratismo solo per il fatto che era socialista fu accusato di spionaggio e gli venne tolto l'accesso alle informazioni classificate del programma del progetto Manhattan che lui aveva diretto fino a 5 anni prima e solo 3 mesi fa è stata revocata quella sentenza ovviamente Oppenheimer era morto da tempo è morto da tempo ma la Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato quella sentenza di fatto ripristinando Oppenheimer come una persona integra dal punto di vista diciamo della lealtà agli Stati Uniti perché era stato accusato di spionaggio solo per il fatto di essere socialista certo e quindi lei non la sapeva questa cosa della sentenza super interessante era il momento in cui c'era il maccartismo il momento in cui c'era John Wayne che presiedeva la commissione etica di Hollywood censurava i film e licenziava i registi se esprimevano simpatie e quant'altro quindi insomma e per questo appunto la mia paura col film è che non si renda giustizia all'openheimer uomo e all'openheimer scienziato e ci si concentri sull'openheimer direttore del progetto manatta certo speriamo però vabbè Nolan ha fatto dei film bellissimi ha fatto anche dei filmosceni tipo un filmoscenio se voglio citare anche io volevo chiederlo anche io volevo chiedermi un sacco paura della risposta allora ragazzi va bene tutto ma in tre stelle eccolo eccolo lo sapevo scusate sì comunque c'è probabilmente essere cioè essere uno storico essere un fisico e vedere film con la fisica che coinvolgono la fisica e film che coinvolgono la storia probabilmente il cringe c'è in ogni caso tipo lui che guarda io prima di lui ho visto Interstellar e ho detto va figo poi ho conosciuto lui e ho detto ti è piaciuto Interstellar allora mi è iniziato a smontare tutto quello che non aveva senso allora infatti tipo tu come storico come quando guardi i film riesci ad avere quella sospensione di di credulità oppure oppure questo me lo rovina allora dipende dal film esempio Bastardi senza gloria di Tarantino ok non so se tutti l'hanno visto comunque per non fare spoiler finisce con una roba che dici eh in che senso che trivellano no la situazione è quella e quando c'è un film del genere che veramente la manda in cacciara così dici ok va e si vola e vai e te la ridi e sei contento però ci sono dei film che guardi e ci rimani un attimino così perché il film soprattutto in ambito storico tenta sempre di fare una cosa di prendere un personaggio e che è buono e un personaggio che deve essere il cattivo nel gladiatore questa cosa succede tranquillamente cioè c'è un buono e c'è un cattivo ci deve sempre essere questa dialettica il buono deve sconfiggere il cattivo e quindi deve avere una vita travagliata e così quando però nella storia è una storia e quindi è un mondo vero è quello che è successo davvero e nella storia è molto difficile trovare un buono e un cattivo a meno di veramente situazioni e limite come poteva essere la seconda guerra mondiale ad esempio ovviamente però moltissimi soggetti vengono visti in maniera differente rispetto alla guerra se noi prendiamo l'Inghilterra nelle guerre boere capitate in Sudafrica contro appunto i boeri e gli zulu che era questa popolazione nativa sudafricana alla fine alla fine dell'ottocento inizio novecento sono visti come la nazione più cattiva del mondo perché? perché rinchiudeva intere popolazioni in veri e propri campi di concentramento ante l'itteram prima di quelli più famosi tristemente più famosi e lì era vista come una potenza cattivissima poi arriva la prima e la seconda guerra mondiale e l'Inghilterra è la potenza più buona che esista perché è l'unica frontiera contro tutta quella cosa che sta succedendo in Europa e quindi questa dialettica un po' si perde nella storia non c'è mai un buono e un cattivo perché se uno sapesse di essere cattivo forse la smetterebbe di comportarsi come tale lui agisce perché le condizioni e la sua idea lo portano ad agire in quel modo e solo poi la storia postuma in base poi anche ai vincitori va a vedere chi era buono e chi era cattivo i film hanno questa dialettica qui che alle volte a me pesa un pochettino deve sempre esserci un buono e un cattivo quando in realtà di buoni e cattivi non ce ne sono bisognerebbe un pochettino andare a riappagare la bilancia per capire bene le motivazioni di uno e dell'altro non lui fa questo perché è buono lui fa questo perché è cattivo forse quello che fa pratica i film a descrivere è il fatto che ogni parte ha degli interessi in gioco e il fatto cioè questa cosa del come dire il relativismo dell'interesse delle parti non riesce a prendere piede nei film in stream ultimamente devo dire però magari sbaglio perché poi non è che ne veda così tanti però ho avuto un po' l'impressione che forse con l'avvento delle serie tv che avendo più tempo raccontando la stessa storia ma magari in più ore riescono a far introdurre una maggiore complessità anche morale dei personaggi non lo so ho avuto questa impressione che la situazione di recente si è migliorata però io non è che guardi tantissimi serie tv no neanch'io infatti mi trovi super impreparato da quel punto di vista però per esempio ovviamente ho visto la serie tv di Chernobyl e la resa dei burocrati dell'unione sovietica da da Shcherbina a Gorbachev è una resa abbastanza secondo me ragionevole poi io non avendo non ho i mezzi per giudicarla però ecco non ti appaiono mai né come santi né come eroi sono come degli imbecilli no beh dipende di qualcuno Shcherbina no ovviamente però i guardi gli dici ma cazzo ma perché stai facendo questa serie di minchiate per usare un tono tranquillo ecco allora mi hanno fatto la stessa domanda che abbiamo fatto noi a te cioè quando un'inesattezza scientifica compromette tutto il resto ah vedi allora i film scientificamente inesatti sono la maggior parte dei film però dipende da quanto si prende sul serio cioè se mi metti davanti agli Avengers io so che sto andando a vedere un fumetto cioè so che sto andando a vedere un'opera completamente scorrellata dalla realtà quindi vado lì sopporto le supercazzole quantistiche e mi godo mi godo il film no anche perché ci sono sempre quelle parole che buttano lì per giustificare le cose e no ma è una cosa quantistica questo lo fanno gli Avengers quando lo fanno le farmacie no ecco che ti vendono il test il test madonna delle vibrazioni quantistiche per capire se sei malato o meno cosa stai dicendo davvero c'è una farmacia di Roma l'abbiamo vista in via del corso tipo la via che va verso San Pietro la via che va da piazza da da piazza San Babila San Babila sì e comunque c'è questa fase di vendere test quantistico delle vibrazioni una roba del genere ti passano i led ed è tipo una truffa e però su quella base San Babila a San Pietro non è comunque non va a San Pietro va verso il Colosseo e e parte da da sottovilla borghese che vendono questa cosa allora ci sono dei film che a volte a volte c'è l'inesattezza in buona fede ok che magari si inserisce via del corso via del corso me lo ricordo c'è l'inesattezza che si inserisce però in un contesto in generale scientificamente abbastanza accurato faccio un esempio The Martian non so se l'hai visto no però ho presente il film allora The Martian all'inizio cioè all'inizio devi sospendere l'incredulità cioè ci sono questi astronauti su Marte arriva una tempesta di sabbia e loro devono assolutamente scappare perché c'è il rischio che la tempesta gli cappotti il razzo e poi non riescano più a partire allora sta cosa non esiste l'atmosfera di Marte è densa un decimo di quella terrestre quindi non ci sarà mai un vento che ti cappotta una roba d'acciaio su Marte però una volta che superi questa cosa il resto del film è molto 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 scientifico è veramente bello è veramente fatto bene ed è anche una bella storia no? in un punto di vista ti coinvolge emotivamente quindi quello per quel film per esempio mi è piaciuto molto ci sono altri film che tentano di fare una cosa del genere prendendosi però sul serio e lì allora no cioè è scritto Interstellar tra le righe no no Interstellar Interstellar la prima parte del film è fatta allora dal punto di vista tecnico è fatto molto bene il portale il buco nero sono descritti con estrema sono raffigurati con estremo realismo il loro consulente ha vinto poi il premio Nobel non è un cretino però attorno a questo hanno costruito una narrativa da far accapponare la pelle cioè veramente una roba tipo esempio quelli che sono scienziati non voglio non voglio spoilerare no no esatto qualcuno c'è qualcuno che non ha visto Interstellar eh magari ci sono ci sono ok no capita comunque sui film che in realtà un film può veramente leggere tanto di un periodo fa molto ridere notare una cosa che è una cosa che ho notato da poco ma è pazzesca che si inserisce nel discorso della storia che la fanno i vincitori che se voi prendete i film americani è molto interessante questa dinamica se sono ambientati all'incirca a metà del novecento i cattivi sono i tedeschi sempre per forza poi arriviamo alla seconda metà del novecento i cattivi diventano magicamente i russi e poi se sorvoliamo l'ottantanove e il novantuno i nemici diventano dei terroristi islamici random oppure della mafia cinese no questa è l'idea perché siamo figli un po' di questa visione del mondo che va a cercare il cattivo e se tu devi cercare un cattivo e beh ma è logico che nel quarante i cattivi erano i tedeschi guarda quello che facevano sono i cattivi e quindi devi andare sempre un po' a giustificare ma forse è anche proprio una questione di egocentrismo nel senso come nazione perché anche quando gli alieni arrivano chi è che invadono gli Stati Uniti cioè è un po' questa cosa qua che è una questione anche prospettica della della narrazione in generale poi la storia è figlia di un racconto prospettico in un modo o nell'altro purtroppo è così difficile riuscire a leggerla senza avere una prospettiva che se per questo i gangster movie americani i cattivi sono sempre russi o italiani eh sì eh sì ma c'è sempre c'è sempre questo bisogno che ovviamente è giustificato dalla trama perché ovviamente un film che non ha un cattivo è dopo un po' dici vabbè ma non succede nulla però però la storia non è fatta di buoni e cattivi la storia è fatta di persone con delle motivazioni e credono così tanto in quelle motivazioni che poi successivamente ma a posteriori la gente li identifica in buoni o cattivi che ce l'hai il commento gli alieni invadono sempre gli Stati Uniti perché di notte mettono più luce e quindi attirano l'attenzione ma non sono non sono delle faline dovrebbero arrivare in pianura padana anche tantissimo no ma invece invece io ho una domanda a questo punto politicamente scorretta e cioè cosa ne pensi del recente del recente vizio di tentare di giudicare personaggi storici con criteri etici e morali tipici della contemporaneità per esempio in America c'è questa fortissima polemica contro Cristoforo Colombo perché era uno schiavista e quando gli fai notare che magari nel 1492 era schiavista più o meno chiunque avesse i soldi per comprarsi degli schiavi non ci capiscono più niente e questo è un vizio che che ultimamente sta prendendo piede e che si applica sia a personaggi storici che vengono di colpo visti negativamente anche Churchill ci sono quelle polemiche in Inghilterra adesso si parla di Dante che è un conservatore sia ad autori autori che come dire di colpo vengono considerati non più educativi o diseducativi perché nei loro libri magari la società che raccontano è una società sessista schiavista quello che era la società nel 600 700 700 800 ma guarda questo è un tema su cui mi sono sempre appassionato e mi sono scagliato contro in maniera molto virulenta in passato perché questa cancel culture la chiamano questa che poi è una parola tremenda c'è la cultura dell'eliminazione tremendo è una cosa che noi purtroppo abbiamo adesso perché da un po' di tempo dalla caduta dell'Unione Sovietica noi siamo arrivati in un momento e ci sono tanti libri che ne parlano in un momento tale in cui la storia sembra finita noi siamo arrivati a un punto in cui le grandi guerre non ci sono più che poi non è vero ma le grandi guerre non ci sono più e poi non c'è più un duopolio come poteva essere nella guerra fredda e siamo arrivati alla fine della storia e arrivati alla fine della storia possiamo avere la pretesa di leggere la storia arrivati alla fine e quindi noi guardiamo degli eventi del passato con il nostro occhio che è la cosa più sbagliata che si possa fare andando ad analizzare un periodo storico quando uno va a studiare l'ottocento l'epoca romana la storia greca qualsiasi periodo storico tu non puoi studiarla come Giacomo Panozzo nella sua camera che si prepara un esame e si legge il libro tu devi essere una persona che vive all'interno di quell'epoca e guardarlo con gli occhi dell'epoca interessata perché solo così puoi andare a capire tutte le varie dinamiche che capitano in quell'esatto momento perché io mi sono arrabbiato come un matto quando un paio di giorni fa hanno detto che Dante era di destra perché non ha senso questa affermazione perché se tu paragoni Guelfi e Ghibellini alla destra e alla sinistra vuol dire che non hai capito niente della storia ma perché? perché la destra e la sinistra sono dei concetti che nascono dopo un millennio dopo Dante addirittura se così vogliamo ma che non si può parlare di destra e di sinistra non si può parlare di concetti che nascono nella nostra contemporaneità attaccati a personaggi storici non ha proprio senso parlare tant'è che quando buttavano le statue di Cristoforo Colombo a terra le andavano le vandalizzavano eccetera eccetera si commette un errore madornale che è quello di leggere la storia con gli occhi del presente e quindi è logico che se vado a vedermi un personaggio come Colombo certo che aveva degli schiavi certo che era una persona che adesso se si trovasse nel 2023 e facesse le cose che faceva sarebbe visto come un cane terribile una persona tremenda ma perché noi lo definiamo un grandissimo navigatore perché era tale perché il fatto che lui avesse schiavi non era un problema per la sua epoca non era un problema perché era socialmente accettato vuol dire che allora tutti dobbiamo essere dobbiamo essere delle persone orribili assolutamente no sono i canoni che sono cambiati ragazzi Lincoln aveva uno schiavo Lincoln che è la persona che viene abitata dalla storia per aver liberato l'America dagli schiavi ma cosa vuol dire questa cosa vuol dire che allora tutte le persone sono tremende quindi non abbiamo più la possibilità di avere un mito no è che noi mitizziamo le figure storiche che non sono però degli idoli dei santoni degli dei che sono perfetti le personaggi storici sono delle persone come me come voi sono le persone che hanno i loro difetti i loro pregi ma che vivono nel loro contesto storico che ne sappiamo che tra anche solo 400 anni che per il tempo storico è nulla magari delle persone guarderanno questa nostra live di oggi e dicono guarda questi tre sono su internet a fare una live sono proprio tremendi andiamo ad abbattere la statua che hanno fatto per loro no ok magari non farli la casa non farli la casa il discorso è questo noi magari noi abbiamo fatto cose buone esatto facciamo delle cose che per noi sono normalissime perché nel nostro contesto storico sono normali ma magari mettere questa camicia nel il 2947 sarà vista come la cosa più tremenda del mondo perché è un simbolo di che ne so e allora capite che mi prenderlo su questo piano non ha proprio senso scusami io mi intervolo sempre in queste dinamiche ma perché mi dà un sacco fastidio pensare a veramente la storia è fatta delle persone che la vivono chi siamo noi per poter giudicare loro e chi sono quelli del 2072 a poter giudicare noi non ha proprio senso non sta in piedi questa cosa no ma allora l'uomo chiaramente difficilmente va oltre il proprio tempo quindi ipotizzando che tu sia la persona migliore esistente in questo momento storico probabilmente con gli occhi del gente tra cent'anni sei un barbaro ma è proprio secondo me la problematica dell'interpretazione di queste figure ha la stessa natura della incapacità per esempio di separare artista e arte cioè persona che fa arte e opera che ha creato oppure l'incapacità di prendere magari quello che dice una persona e non fare l'errore di una domine cioè siccome quella persona tendenzialmente dice stronzate allora qualsiasi cosa dice è una stronzata cioè secondo me è tutto un nocciolo della stessa cosa della stessa necessità di generalizzare e di uniformare le cose proprio perché facciamo fatica a gestire la complessità facciamo fatica a vedere che una persona di mille anni fa viveva in coordinate morali ed etiche completamente diverse dalle nostre e quindi finiamo a giudicarla con i criteri di oggi facciamo fatica a comprendere che un artista può aver creato l'opera più bella del mondo ma essere un pezzo di merda che poi è strano io mi ricordo quando scusa Giacomo non so se volevi dire qualcosa visto che stavi partendo sì 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 no ma tranquillo tranquillo anzi quando facevo le credo scuole medie o le scuole superiori c'era tipo una rivista studentesca dove si faceva il processo ai personaggi storici ok c'era tipo una sorta di fumetto in cui il personaggio storico era tipo in un tribunale e veniva accusato di vari crimini genocidi cose varie e lui si difendeva raccontando la sua versione dei fatti e poi tu dovevi votare se era colpevole o innocente e ovviamente sulla rivista sul numero successivo c'era il risultato del voto del numero precedente io me ne ricordo due uno era Ramses II che venne accusato insomma l'accusa era quella di aver sterminato gli Titi nella famosa battaglia di Kadesh e l'altro era Carlo Magno che veniva accusato di persecuzioni religiose di fatto cioè di aver convertito forzatamente a spadate le popolazioni pagane della Danimarca della Scandinavia e quant'altro e la cosa incredibile è che Francesco II era stato condannato e Carlo Magno era stato assolto ma che differenza c'è e la differenza è che Carlo Magno lo studia a scuola come una figura positiva e quindi il fatto che poi fosse di fatto cioè non c'è nessuna differenza tra Carlo Magno ieri e l'Isis oggi cioè sono gente che ha religione in testa è convinta che la sua religione sia quella giusta e gli altri devono convertirsi o morire e questo faccio il fatto è che aiuta il discorso storico che tu vuoi intraprendere questa cosa perché in America si vandalizzavano le statue di Colombo perché era un'America molto 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 nazionalista e che quindi gli americani si sono fatti da loro e pensare che un europeo aveva scoperto l'America e quindi noi dipendiamo dagli europei non era una dialettica che andava più bene e quindi Colombo era il simbolo un po' di questa di questa essenza e se tu vuoi raccontare il fatto che l'America è composta dagli americani e basta Colombo diventa un simbolo scomodo diventa un simbolo storico che può essere fuorviante per la tua dialettica politica attuale che non ha senso sul piano sul piano fattuale perché ovviamente Colombo non è che poteva sapere che nel 2000 non solo in realtà il Columbus Day adesso non solo le statue ogni singola statue avrà la sua storia ma il Columbus Day la celebrazione di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti fu introdotta dal governo americano negli anni 50 come in qualche modo pacificazione con la comunità italiana negli Stati Uniti che era stata vittima di numerose discriminazioni nei decenni precedenti che erano culminate ovviamente con l'ecidio di New Orleans e con il processo a sacco e vanzetti e c'era un c'erano molto razzismo nei confronti degli italiani e allora come segno di amicizia nei confronti tra gli Stati Uniti e l'Italia e gli immigrati italiani in particolare venne istituito il Columbus Day prendendo un po' Cristoforo Colombo come figura di riferimento e almeno questo l'hanno mantenuto perché adesso che il Columbus Day è stato abolito è stato non in tutti gli Stati Americani però in alcuni Stati Americani hanno abolito il Columbus Day ma lo hanno sostituito con una generica celebrazione festa della cultura italo-americana certo è che la storia aiuta tanto a giustificare le cose basta vedere quello che è successo in Ucraina uno dei pretesti con cui Putin ha invaso l'Ucraina è stato anche quello ci prendiamo un territorio che fondamentalmente era nostro fa comodo la storia perché tu vai a vedere delle cose capitate nel passato e te le giustificano con quelle però veramente un territorio come l'Ucraina se tu vai indietro nella storia lo può reclamare chiunque cioè c'è veramente stato chiunque è un po' come se gli italiani venissero in Romania e dicessero allora adesso vi annetto perché tempo fa la storia è comoda è comoda la storia è comoda perché puoi leggerla veramente come vuoi e come la giri la giri può aiutarti è uno strumento che è mortale se tu lo utilizzi in un certo modo perché veramente puoi leggerla come vuoi è pazzesco è per questo che bisogna capire la sua importanza perché in base a quella si muovono eserciti è pazzesco e infatti io avevo fatto il meme io ovviamente senza sapere su tutto sto ragionamento però quando era uscita sta cosa del ah l'Ucraina storicamente è stata russa quindi i russi hanno diritto ad invaderla io avevo fatto il meme di presente quello del tipo così e dietro c'è un tizio enorme e dietro c'è un tizio ancora più grosso con una mazza e dietro c'è un tizio ancora più grosso con una mazza chiodata ecco c'era il tizio russo che diceva l'Ucraina è sempre storicamente russa dietro di lui c'era tipo il tizio con la bandiera dell'impero di Ottone I dietro di lui c'era il tizio con la bandiera dell'impero romano e dietro ancora c'era quello gigante con la bandiera di Gengis Khan ecco e beh ma sì perché è comodo eh ragazzi è veramente comodo utilizzare la storia per un certo modo però io sono molto favorevole a leggere veramente la storia in maniera più oggettiva possibile perché se noi siamo arrivati qui nel 2023 in questa condizione è perché c'è stata tutta quella roba lì e se noi non siamo consapevoli di quello che è successo vuol dire che stiamo cancellando il passato che ci ha portato qua e perché cancellare le brutte cose se possiamo leggerle e andarle a non lo so capire cosa è andato storto per poi correggere è una cosa che noi come esseri umani facciamo sempre malissimo però caspita è un modello che senso ha cancellarlo se è quel modello che ci ha portato qui noi adesso c'è un proverbio che dice che chi cancella il passato chi dimentica il passato è condannato a ripeterlo sì ma è anche come immaginare che ne so immaginiamo che dalla testa della gente da tutti i libri venga cancellato che ne so la formula della gravità oppure l'aver scoperto che la terra è rotonda cioè quanti anni dovrebbero passare ancora perché cancellate le tecnologie ok no ma quello è sai che una delle cose della scienza che si dice sì la scienza rimarrà cioè puoi cancellare tutti i libri e poi te la ritrovi uguale però quanto tempo perdi cioè ci ritroveremo a dover rifare gli esperimenti le prove i fallimenti e tutto perché abbiamo cancellato il bagaglio culturale che la scienza ci dà letteralmente la storia è un bagaglio culturale è un bagaglio di informazioni che ti servono per poter sapere cosa non devi fare poi è che la cosa bella di una materia come la vostra è che fondamentalmente se si eliminasse tutto e si ricominciassero le ricerche molto probabilmente si arriverebbe al risultato magari in tempi più o meno brevi si arriverebbe un po' quel risultato lì se invece un monaco medievale che trascrivevano i libri e che quindi erano l'unica possibilità non essendoci ancora la stampa per poter tramandare qualcosa se un monaco che magari è successo ha cancellato un nome dalla storia quel nome non esisterà più e noi non ce lo ricorderemo mai e quindi noi come esseri umani relativi alla storia abbiamo la possibilità di e il dovere forse di essere artefici di quello che stiamo trasmettendo e se noi facciamo l'errore di eliminare una parte non sappiamo quali effetti possa provocare in futuro perché non sappiamo come poi potrà essere letta quella cosa è un po' è un po' strana la storia da quel punto di vista perché basta pochissimo a dimenticare le cose ed è un peccato allora vediamo non mi sono accorto era vero aveva detto anche lui allora stavo guardando se c'erano delle domande parlano di invadere no vabbè a parte i commenti in che senso una bellissima immagine con la storia della bandiera ucraina che dal 1400 agli stessi colori ti chiedono se questa cosa è corretta o no non so se tu lo sappi non ho idea oddio ma non lo so perché l'Ucraina esiste come entità a sé proprio a sé senza considerare il principato di Kiev solo a partire dalla intanto mi sono bloccato un casino vabbè questa sera un Vantuba ottimo no ed è come solo dal dal ventesimo secolo come entità autonoma per cui non non ti so dire in realtà forse il principato di Kiev sì però non ho non ho i mezzi in realtà al momento per dirtelo lo so ma invece da quando c'è diciamo la guerra in Ucraina ti sei trovato a fare tanto debunking su questa cosa? allora debunking no ma più che altro perché è molto difficile avere la pretesa di sapere quello che realmente sta succedendo che è una cosa che in realtà capita molto spesso a giornali tv eccetera eccetera perché non si è lì e non si può veramente saperlo al in realtà al 100% la cosa che mi ha mi ha fatto capire riguardo alla guerra è stato la grande difficoltà che a mio parere è veramente disarmante nel leggere una situazione in base a realmente quello che sta succedendo perché noi forse non eravamo proprio più abituati a vedere la storia nel suo compimento e in pochi anni ci siamo ritrovati a avere la storia proprio sotto mano è successo col covid è successo con la guerra in ucraina sono delle cose che sui libri di storia ci saranno sicuramente ed è una cosa cui noi non eravamo abituati da un po' quanto meno sulla nostra pelle in Europa e vivere questa cosa secondo me ha fatto riaffiorare tantissimi sentimenti di paura di inadeguatezza forse e di non lo so in scarsa preparazione se vogliamo a situazioni come queste la storia non ci aveva mai portato almeno quella veramente attuale a vedersi vedere il suo svolgersi in maniera diretta e quindi molto spesso ho visto letture di quello che sta succedendo paradossali pazzesche qualcosa come adesso il mondo finisce adesso succede questo adesso che sono letture proprio portate da una forte sensazione di impotenza che forse non vivevamo da un pochettino ma che la storia ci ha sempre abituato però forse in maniera distaccata cioè noi ci immaginiamo la seconda la prima guerra mondiale ma ce la immaginiamo è lontana adesso noi stiamo vivendo una guerra in Europa ed è un po' strano non l'abbiamo vissuta da un pochettino c'è una domanda che penso sia interessante perché abbiamo citato Cristoforo Colombo ci chiedono se abbiamo visto l'articolo pubblicato di recente su Il Post circa il fatto che tra Milano e Genova nel 1340 si sapeva già probabilmente dell'America cioè che ci sono un'idea di cosa stiano parlando quindi però qua ci hanno messo l'articolo quindi ma guarda che in realtà della scoperta dell'America se ne potrebbe parlare tantissimo perché fondamentalmente popolazioni nordiche molto probabilmente c'erano già state molto probabilmente delle persone ci sono finite lì e magari non sono tornate indietro molto probabilmente partendo da zone come l'Islanda arrivando in Groenlandia e poi nell'attuale zona del Canada ci sono passate noi abbiamo sempre la concezione dell'America che deve essere scoperta poi dall'Europa ma poi guardiamo una cartina e vediamo che il braccio più a nord della Russia quasi tocca il braccio più a nord dell'America non è così impensabile pensare a delle popolazioni che magari con qualche glaciazione millenni e millenni fa sono passate di là così è avvenuta la colonizzazione del mondo noi siamo nati in Africa e da lì ci siamo spostati quindi in America ci siamo finiti comunque parlare di scoperta dell'America è un po' strano bisognerebbe parlare di riscoperta a quel punto dell'America però sì sono tutte idee storiche che noi abbiamo perché le abbiamo studiate così però sì e no in realtà ma tutto quanto sono un po' dei precetti che ci aiutano ma le stesse periodizzazioni nella storia sono cose create ad hoc quando finisce il Medioevo quando Cristoforo Colombo scopre l'America appunto e quindi noi nella nostra idea siamo portati a pensare che ah figata allora non siamo più nel Medioevo basta togliamoci questi indumenti schifosi ci mettiamo una bella parrucca come quelle di Mozart siamo nell'epoca moderna ragazzi dai evviva che bello non succede così è un processo lunghissimo che ovviamente però noi selezioniamo a posteriori per periodizzare la storia perché ci aiuta ma ovviamente sono tutti costrutti che ci aiutano a studiarla però in realtà insomma stringi stringi sono come le unità di misura le unità di misura in fisica sono ma di fatto non non hanno nessun significato se non per noi la luce non è che viaggia a 300.000 km al secondo nel vuoto la luce viaggia a quella velocità lì siamo noi che viene comodo siamo noi che viene a comodo dividere il tempo in secondi la distanza in chilometri e quindi esprimiamo quella velocità come 300.000 km al secondo infatti in fisica teorica molto spesso non lo si fa ma anche diciamo che ne so che il Giappone è la terra d'oriente perché è lì che sorge il sole sì ma in realtà la terra gira esatto perché a un certo punto abbiamo messo i meridiani uno l'abbiamo messo in Inghilterra perché l'Inghilterra in quel momento come dire era il capo del mondo e e quindi come dire ciò che è a destra dell'Inghilterra è a est e ciò che è a sinistra è a ovest meno male poi la linea della data casca nel Pacifico e quindi il Giappone è il primo posto no certo ma è tutto quanto relativo anche a noi come anche europei cioè perché noi diciamo che l'epoca moderna finisce col congresso di Vienna e da lì comincia l'epoca contemporanea nel 1814-15 perché? perché Napoleone in Europa ha fatto un casino ma Napoleone in Australia raga boh cioè quindi non c'è questa noi abbiamo una visione molto europocentrica della storia e del mondo e da lì ci muoviamo di conseguenza non è che la trovo una cosa così tremenda siamo portati a fare così perché? perché viviamo abbiamo vissuto quel momento lì sono d'accordo anche se secondo me qualcosina ce lo perdiamo nel senso io ho fatto per alcuni anni un lavoro che mi ha portato a viaggiare moltissimo e sono stati in alcuni posti dove ho visto normalmente quando io vado in un posto nuovo la prima cosa che faccio è visitare il museo nazionale il museo nazionale di storia o equivalente perché poi so che qualunque monumento andrò a visitare successivamente almeno a un po' di contesto perché quando sono in Nalesia sono andato a visitare per esempio a Kuala Lumpur il museo della storia il museo storico nazionale e a Singapore il museo della storia delle civiltà asiatiche wow e scopri tutta una serie di è un universo di cose di regni imperi cose dinastie di cui tu non hai mai sentito parlare e dici cavolo però sto posto qua tu ne scopri l'esistenza quando arrivano prima i portughesi poi gli olandesi poi gli inglesi a contenderselo e di un peccato un'altra roba che mi colpì moltissimo fu a Istanbul il museo della storia della scienza e della tematica nell'islam e tu scopri che praticamente fino al 1600 1700 i paesi islamici erano molto più avanti di noi a parte che lo zero ce l'hanno portato loro dagli indiani per esempio c'è lo zero noi lo dobbiamo agli indiani ma c'è arrivato tramite però per esempio hanno inventato tutta una serie di macchine per l'irrigazione hanno inventato l'anestesia dal punto di vista medico esatto i dentisti dal punto di vista medico erano avanti tantissimo l'astronomia erano avantissimo e però noi studiamo la storia in maniera europacentrica eurocentrica e quindi ci perdiamo studiamo magari i nomi dei grandi scienziati inventori occidentali e ci perdiamo un po' il resto e secondo me è un peccato quando sono stati in Messico il livello di precisione dell'astronomia Maya è una roba che non è stata eguagliata in occidente fino all'invenzione dei telescopi perché veramente avevano un modo di tracciare le carte celesti che era una roba che fino all'invenzione del telescopio noi non siamo stati in grado di replicare beh ma prendi Gutenberg la stampa caratteri mobili era qualcosa che in Cina esisteva la carta in Cina esisteva fondamentalmente noi siamo portati a leggere la storia dell'Europa in maniera tale che allora noi abbiamo fatto questa cosa qui però se tu vai a leggere la world history questa storia a volo a volo d'uccello un pochettino allontanandoti dalla prospettiva vai a vedere come in realtà questa divergenza europea nella progressione scientifica è stata una piccola parentesi storica si va da il 500 da quando risultate le grandi scoperte europee fino a l'altro ieri quando l'Europa non è più diventata al centro del mondo dopo la seconda guerra mondiale e la Cina e l'Asia sono tornate prepotentemente sulla scena globale ma quindi si parla di 400 anni che in termini storici sono piccolissimi in cui l'Europa è stata al centro del mondo ma è pochissimo e è una piccola parentesi però noi all'interno di quella parentesi ci schiaffiamo tutto perché siamo bravi siamo belli siamo simpatici è un po' questo anche perché il salto tecnologico che c'è stato in quei 400 anni è stato cioè in quei 400 anni l'umanità è progredita a livello scientifico e tecnologico più che nei 2500 precedenti penso non lo so poi di nuovo la mia la prospettiva di uno che vive nel 2000 però i salti diciamo i progressi a livello tecnologico e scientifico sono lo si vede anche un po' dai dati sulle speranze di vita e sulla popolazione mondiale il fatto che siamo passati nel giro di 500 anni da una speranza di vita media di 38 anni ovviamente dovuta alla mortalità infantile elevata non è che si morisse a 38 anni però una speranza di vita di 38 anni è una di 80 e da una popolazione di 500 milioni di persone di 9 miliardi e dire perché abbiamo di colpo sconfitto una quantità di malattie in vera e conda eliminato la mortalità infantile abbiamo imparato a produrre benessere energia ricchezza per una quantità enorme di persone da dove prima si moriva di fame quindi sono stati 400 anni non sono tantissimi però insomma no 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 ma su quello non c'è dubbio il fatto è che si dimentica che al di fuori dell'Europa o al di fuori di quel periodo c'è stata effettivamente della storia ed è un peccato perché ti perdi come dicevi tu Luca veramente tantissime cose che potrebbero caspita cambiarti anche la concezione del mondo io invito un sacco di persone a leggervi il milione di Marco Polo che sembra una cagata però in realtà veramente è una persona che nel 1200 è andata dall'altra parte del mondo e te lo descrive ed è pazzesco vedere insomma queste dinamiche che stupiscono lo stesso Marco Polo da un certo punto di vista è pazzesco perché esisteva tutto un altro mondo e che noi ancora adesso non lo conosciamo perché non lo studiamo mai anche se magari potremmo farlo è un peccato per esempio tipo la storia della Cina io non so niente se non quello che mi hanno insegnato i videogiochi della serie Dynasty Warriors però quei videogiochi lì mi hanno messo un sacco di curiosità per cui prima o poi mi comprerò qualche libro eh sì purtroppo però lì sai vedi la storia della Cina e io sono quando mi hai detto storia della Cina ho pensato alla dinastia King ma perché me la sono studiata per i cavoli miei giusto così perché in un momento di debacle mia perché alle volte parlo e non mi fermo più e poi sono subito ho subito pensato alla ribellione dei alla guerra dell'oppio alle guerre dell'oppio che però sono il momento in cui l'Europa entra nella Cina tra l'altro quella guerra lì non la viviamo come una guerra tranquilla in Cina è vista come una data periodizzante è il momento in cui la Cina è diventata succube degli europei quella è l'idea che è una cosa che noi non percepiamo come importante chi è che magari che l'ha fatta le superiori si ricorda le due guerre dell'oppio chi se ne frega in Cina invece è qualcosa di super sentito ma noi qualcuno qua invita a seguire Nova Lezio per la storia degli altri continenti io io invece allora dal punto di vista storico non lo so nel senso non ho gli elementi per giudicarlo dal punto di vista economico politico e scientifico Nova Lezio tira delle cantonate importanti lo ha fatto quando ha parlato di nucleare perché ha parlato della vicenda di Laria Alpi e dei rifiuti delle navi a perdere facendo un mischione di cose che non c'entravano una minchia l'una con l'altra lo ha fatto in due diverse occasioni parlando di economia tirando fuori quelle che amici più esperti di me definirebbero teorie del complotto a livello economico finanziario e quindi diciamo è un bravo ragazzo con una laurea in islandese che storia quindi una sua passione che più non ha studiato a livello accademico che ah ecco poi ha fatto un altro video sul franco CFA in Africa che è puro perottismo perché sono proprio quelle sono proprio scemenze sì è vero è vero e quindi insomma non voglio parlarne non voglio dire che sia una persona brutta ok però ha sbagliato però prende tante cantonate quindi guardatelo perché è piacevole ma prendete quello che dice con molto molto beneficio del dubbio ecco il fatto è che la storia è un contenitore di tutte le materie se tu studi storia puoi andare veramente a toccare qualsiasi materia la fisica l'economia la matematica la filosofia tutto quanto ed è un po' il problema dello storico quello di doversi destreggiare in un mega contenitore dove all'interno c'è qualsiasi cosa e questo può essere un pregio un difetto perché se tu puoi ti arroghi il diritto di poter sapere tutto quello che c'è in questo contenitore sbagli perché vai a toccare altri ambiti quello che si diceva prima lo storico deve essere oggettivo deve poter guardare tutto e raccontare soprattutto tutto come un cronista che quindi non è coinvolto emotivamente in quello che racconta perché la storia non è ancora la guerra in Ucraina perché io sono coinvolto emotivamente nella guerra in Ucraina e quindi non posso raccontarla perché sicuramente darei una mia visione invece della guerra dei cent'anni io purtroppo non mi sento non so che non sono che c'è qualcuno che patteggiava per Giovanna d'Arco e qualcuno però vabbè mi dispiace però io lì non mi sento coinvolto emotivamente ne posso parlare e quindi devo essere veramente il più distaccato possibile da quel punto di vista come si fa a essere distaccati questa è una mia domanda forse un po' difficile però tu hai detto che ti interessi della storia soprattutto da un punto di vista politico sì diciamo storia del pensiero politico anche immagino e via dicendo però hai anche detto che molto di questo pensiero politico della storia contemporanea è vivo ancora oggi determina il pensiero politico di oggi e quindi determina anche il pensiero politico all'interno del quale noi ci muoviamo all'interno del quale noi andiamo a votare come si può parlarne con distacco eh allora ma se se vogliamo tutte le forme politiche attuali nascono con la con la rivoluzione francese eh da da quei tre elementi di egalité fraternité liberté nascono tutte le varie dottrine politiche dal conservatorismo al socialismo e dal comunismo nascono tutte da lì dall'abbattimento dell'antico regime tant'è che il liberalismo fondamentalmente in sé non esiste è un contenitore di tutto il liberalismo sa cosa non vuole ma sa non sa cosa vuole fondamentalmente non vuole l'antico regime e da lì nascono tutte le varie dottrine politiche attuali non se ne è coinvolti emotivamente perché io ho il mio orientamento politico come tutti voi fondamentalmente ognuno non può dire che è staccato da questa cosa ovviamente un politico mi fa piacere un politico no ma ed è qui la sfida dello storico è quella di quando sei Giacomo Panozzo la persona che va a votare hai la tua idea politica e quella non te la toglie nessuno è il tuo pensiero quando però sei Giacomo Panozzo lo storico devi andare a guardare tutto però senza mai mettere la tua la tua idea dentro adesso nelle scuole si fa sempre meno in generale rispetto anche solo a una generazione precedente si fanno molto meno gli scritti di Marx si studiano molto meno e perché Marx comunista comunismo oddio essi fanno degli occhi abbastanza importanti però se tu vai a studiare Marx e leggerlo con un occhio distaccato è un pensiero filosofico un pensiero politico che si è sviluppato e se si è sviluppato vuol dire che c'erano le condizioni storiche per poterlo sviluppare tu devi andare a studiare un pensiero politico in base a tutto quello che lo circonda perché può veramente aiutarti a capire un'epoca non devi dire quello è bello o quello è brutto devi andare a dire quello è nato in quel contesto perché è successo così quello invece no perché voleva quest'altra cosa però ti vanno a spiegare tanto da quel punto di vista tu devi cercare ed è difficile è molto difficile di non schierarti anche se ovviamente le tue motivazioni ce le hai però le devi celare dietro un'oggettività proprio per amore della narrazione e del racconto storico e a proposito di schierarsi oggettività ti chiedono come vedi Barbero allora Barbero per me a parte che è un ho dei sentimenti contrastanti riguardo a Barbero Barbero per me è un è un grande storico è un grande storico o meglio è un grande divulgatore perché Barbero riesce a presentarti un personaggio storico e a rendertelo umano cosa vuol dire quello che dicevamo prima se un personaggio storico lo vedi come un dio lo vedi come un mito allora tendi a eliminare il fatto che era veramente un uomo aveva le sue abitudini aveva i suoi vizi i suoi difetti era una persona come lo siamo tutti noi e Barbero riesce tramite delle lettere magari private che ti legge tramite dei comportamenti che ti spiega che quel determinato personaggio storico aveva riesce a umanizzartelo e quindi riesce a partelo conoscere che è un po' la cosa bella della storia se la studia approfonditamente tu puoi conoscere un personaggio storico come se fosse un tuo amico perché lo conosci a tal punto da poter dire io so tutto di lui e Barbero fa questo nei suoi racconti storici perché sono delle storie fondamentalmente la storia è una storia riesce a fartelo apprezzare perché è lì perché è un personaggio Barbero però secondo me nell'ultimo periodo è un po' diventato vittima del suo personaggio è diventato così conosciuto così influente che ha cominciato a estragnarsi dalla sua dimensione da storico alle volte in alcune sue uscite non è più il Barbero storico è il Barbero persona solo che alle volte le persone non distinguono le due figure e quindi si vanno va un attimino a cozzare questa cosa mi viene in mente l'uscita che aveva fatto sulle donne che poi era stata travisata era successo un po' un casino era nata perché Barbero stava parlando da persona da Alessandro Barbero che è una persona e che ha il suo pensiero non da Alessandro Barbero storico è un po' la stessa dinamica passatemi il paragone assolutamente molto 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 brutto con la Rowling di Harry Potter quando la Rowling ha fatto le sue uscite tremende con tutto quello che ha detto la gente ha cominciato a bruciare i libri di Harry Potter ma la Rowling scrittrice e la loro in persona sono due persone che insomma l'opera non ha nulla a che fare con l'autore se l'opera è già stata fatta Barbero non è riuscito a portare avanti questo passaggio probabilmente c'è un Barbero storico un Barbero persona che alle volte entrano in conflitto nella testa delle persone mi viene in mente che il parallelismo con quello che sta succedendo con Parisi Parisi è fisico dei sistemi complessi ha preso il Nobel per le sue ricerche sui vetri di spin sui quali è il massimo esperto mondiale poi quando parla di nucleare dice una marea di vattati parla con gli stessi pregiudizi le stesse obiezioni che chiunque sappia un pochino di nucleare sa già rispondere guarda che non è così eppure la differenza forse tra Barbero e Parisi è che non è che si faccia fatica a distinguere Parisi persona dal Parisi scienziato ma è che si cerca di estendere l'attributo scienziato di Parisi a qualsiasi cosa lui dica e non neanche lui stesso cerca di far distinzione tra le due cose quando si esprime su argomenti che non sono di sua diretta competenza quindi è lui stesso che non dice guarda che secondo me si può dire di Barbero che quando parla di Medioevo perché lui è un medievista caspita non sbaglia niente quando parla di storia contemporanea non sbaglia quasi niente però quando parla di attualità che è storia contemporanea per certi versi tende ad applicare i suoi filtri ideologici che peraltro sono gli stessi di Parisi perché sono entrambi comunisti comunisti vecchio stampo comunisti veteromarxisti non con Rolex praticamente no comunisti comunisti con una visione del mondo comunisti con una visione del mondo ancora ancorata alla alla società industriale che oggi è in occidente siamo guardiamo oltre la società industriale quindi comunisti con ancora l'idea che oggi le multinazionali si basino sulla proprietà privata dei mezzi di produzione da parte dei padroni la proprietà privata cioè il mezzo di produzione di Facebook qual è? Un server cioè sono concetti che non hanno perdono molto di senso nella contemporaneità ma ed entrambi parlano di argomenti che sono affini al loro ambito di competenza ma non quello su cui loro sono specializzati facendosi trascinare leggendo la realtà attraverso questo filtro ideologico che li porta a dire scemenze Rovelli invece è assolutamente un coglione perché non voglio fare il confronto tra abbiate pazienza perché Barbero è uno che dice fa una divulgazione storica bellissima quando parla di attualità vede la cosa attraverso il comunismo e quindi ti dice che il declino economico italiano è dovuto alle politiche troppo liberali che è una cosa discutibile perlomeno non voglio dire sbagliata ma diciamo discutibile e lo dice con la stessa sicurezza con cui ti parla delle battaglie del 1200 dove invece la stessa cosa vale per Parisi che ti dice che Cernobil in Pia Duna Padana avrebbe fatto milioni di morti quando non c'è nessuna evidenza scientifica e te lo dice con la stessa competenza con cui ti parla di vetri di spin anche se non ha la stessa competenza Rovelli è un filo russo quindi è un coglione punto cioè Rovelli che pure da livello scientifico ha dato dei contributi importanti io ho letto l'ordine del tempo di Carlo Rovelli mi ha aiutato a capire di fisica più di quanto avessi fatto alle superiori però sì non siamo non siamo sullo stesso livello perché le affermazioni di Barbero e quelle di Parisi sono affermazioni su cui io trovo discutibili le trovo sbagliate quelle di Parisi credo anche avere la competenza per valutarle come sbagliate sul nucleare però sarei più che disponibile anzi ho cercato di farlo molte volte ad avere una conversazione con il professor Parisi per discuterne con lui le affermazioni di Rovelli sulla guerra in Ucraina sono aberranti anti-umane e supportano un genocida un criminale di guerra quindi non siamo sullo stesso livello ma poi certo chissene se filo russo se no non torniamo a base della cancer culture mica sto dicendo che questo rende le ricerche di Rovelli sulla gravità quantistica loop irrilevanti o non degne di essere studiati anzi io sono un sostenitore dell'ipotesi stiamo proprio facendo la distinzione tra la persona e lo scienziato cioè proprio applicando la meccanica di cui abbiamo parlato prima stiamo facendo l'esempio pratico di come si dovrebbe leggere una persona e la sua opera però Parisi è un grande scienziato ed è una persona che sbaglia Barbero è un grande divulgatore un grande storico ed è una persona che sbaglia o che perlomeno io credo che sbagli su certi argomenti Rovelli è un grande scienziato ed è una persona di merda che supporta un dittatore non è la stessa cosa adesso Carlo Rovelli ci non ci farei quello che gli pare e io che non avevo hater ragazzi mi avete distrutto mi dissocio mi dissocio no? sì basta che dici mi dissocio ottimo allora vai vai dissocio mi dissocio su qualsiasi non ho battesimo di fuoco davvero ragazzi allora su tiktok tra l'altro mi dicono che io sono non so saccente quando racconto certe cose eccetera perché non hanno visto il suo twitter oppure il suo Facebook il mio twitter o le sue live però come dire siamo bravi quasi è una questione di forma più che di di altro però se forse pare sia recuperabile non so magari sì se qualcuno come dire non continuasse a invitarlo come se fosse la parola di Dio in tv e magari accettasse il confronto con qualcuno ma questa è una cosa che è una domanda magari tu che hai studiato storia del novecento questa questa sindrome da premio nobel c'è sempre stata cosa intendi con sindrome da premio nobel quello per cui sostanzialmente il premio nobel che è ovviamente un premio di altissimo livello ti dà un'autorità morale per parlare di qualunque cosa per cui ah guarda il premio nobel ha detto questo diventi praticamente la quintessenza della fallacia avautoritatem avautoritatem attenzione vabbè io vi lascio sono grazie fate le vostre cose comunque di solito si usa sempre ad più accusativo o ab più accusativo ma poi terza declinazione rose rose ragazzi quella è la prima ecco il palle però eh dai ho due robe mi ricordo ad autorità da autorità ad autorità tem sì sarebbe ad autorità tem ma non è così no credo invece sia così sai perché tutte le fallacce sono con l'accusativo mi ricordo con l'accusativo argumentum ab autoritate va bene hai ragione comunque sia sta cosa per cui che è stata usata moltissimo con montagnè per esempio famoso scopritore dell'irus HIV che però poi ha perso completamente il cervello è diventato novax ma il fatto è che con con questa tendenza che nella storia c'è dall'epoca moderna di sempre più conoscenza e quindi sempre più professionalità delle varie materie quindi diventano molto più settoriali una volta se prendi un Leon Battista Alberti lui era tutto era un astrologo era uno storico era un matematico era qualsiasi cosa adesso scusami era anche un crittografo ecco vedi sì sì infatti io ho studiato il suo metodo di crittografia ancora un po' io perché la mia tesi triennale era sulla crittografia quantistica e ho fatto una parte introduttiva sulla storia della crittografia bellissimo che è passato anche per il disco cifrante di Leon Battista Alberti ma sì io l'avevo riprodotto vabbè sì siamo un po' dei nerd Luca va bene evitiamo di entrare in questa cosa no però è un po' il problema della legittimazione sul grande schermo nel senso che tu hai il Nobel sei un figo allora posso dirti quello che voglio e tra l'altro è un po' un problema che si ha ma non solo sul Nobel anche in generale basta guardare alcune persone sui social hanno un po' di numeri si sentono in dovere di poter parlare di qualsiasi cosa è un po' un problema una sindrome da piedistallo forse che ha l'uomo che quando ha un po' di persone che lo seguono un po' di gente si sente in dovere di dover parlare su ogni cosa io mai mi metterei a parlare di nucleare o di tutto quello di cui parlate voi perché ne so meno della metà però tantissime persone ogni riferimento a morte bianca è del tutto casuale tu non ci hai avuto a che fare no io vi ho conosciuto a Luca quest'anno e l'ho conosciuto lì tramite voi tra l'altro per cui sì ho avuto la mia esperienza interessante so che è un vostro grande amico e sono molto contenta di questo ma non per colpa nostra cioè noi siamo avvertissimi a insegnargli le cose se vuole delle lezioni di fisica gliele do anche io posso fare delle in versione tiktok anche però per me tu vuoi dare le lezioni di fisica non ero più in grado però invece adesso è super facile io lo vedo anche con la storia è super facile avendo una una baccheca così ampia come internet riuscire a poter parlare di alcune cose cioè se io vado a cercarmi l'assedio ottomano di Vienna su google mi apro wikipedia me la leggo un attimo ne so parlare bene o male per due minuti se tutto va bene e questo sembra legittimare moltissime persone a poterne parlare il fatto è che lo fanno veramente senza cognizione di causa alle volte non ho in mente una persona ben specifica però capita molto spesso di sentire strafalcioni storici perché avete visto quello ha fatto questo nel passato quindi loro sono cattivi adesso che è il discorso che facevamo prima che è mosso da una superficialità storica che è portata però da mezzi che te la fanno leggere in maniera molto rapida e molto veloce una volta se dovevi studiare storia devi aprire le fonti andare a vedere uno sbatti tremendo adesso è molto più comodo che però poi tra l'altro penso da questa considerazione qua cioè dal fatto che è più facile che è difficile coprire tutta una serie di argomenti ad oggi ad essere precisi cioè è facile magari farlo superficialmente fare un po' il tuttologo andandosi a spizzicare internet ma è più difficile magari fornire come divulgatori informazioni approfondite sui più disparati temi cioè se io come utente voglio andare da qualche parte a informarmi su storia geografia chimica fisica tutto quanto devo farmi un po' lo sbatti io però tu proprio da questa considerazione qua secondo me sarà forse da questo che è nato anche l'altro progetto di cui fai parte no? il tu non fai parte ok bravissima a collegarli bravissima a collegarli però voglio neanche mi ero accorto no sì ci sono sì noi abbiamo un piccolo gruppo presentiamo questo progetto di altri ragazzi su tiktok che insomma ognuno di loro ha una peculiarità nel loro tema sono siamo chiamati gli influencer no? per andare un po' contro questa idea dell'influencer chiocciola chiocciola un influencer esattamente esattamente che ognuno di noi parla di una materia ovviamente non le copriamo tutte cercando un pochettino di portare avanti quest'idea che il social è veramente un'opportunità che noi adesso abbiamo e che non ci rendiamo conto di quanto può essere importante è una piazza enorme vuota e noi abbiamo il diritto e la possibilità di prendere la nostra scatolina mettercela per terra salirci sopra e poter parlare è una cosa che se noi andiamo a studiare la storia non è mai 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 esistita questa cosa poter parlare a tutto il mondo potenzialmente e noi molto spesso avendo questo grandissimo potere non abbiamo la grande responsabilità citandolo zio Ben di poter dire delle cose belle alle volte noi prendiamo questa scatola ci saliamo sopra e riversiamo un sacco di roba in questa piazza prendiamo un sacchetto dell'umido e lo buttiamo al centro di questa piazza e la sporchiamo ed è un peccato se sfruttati bene questi posti possono essere veramente veicoli di qualcosa di bello e sicuramente ci sono tanti esempi di questo io sono contento che ci siate anche che si state anche voi due in questa cosa che portate non solo voi due ma tutto tutto il gruppo che vi aiuta anche voi per fare questa cosa perché secondo me i social possono veramente avere un potenziale che nella storia non c'è mai stato di dare voce a tante persone che è una bella e una orribile cosa perché fondamentalmente può portare a qualcosa di tremendo come può portare a qualcosa di bello e se noi però ci limitiamo solo a criticare le cose senza metterci lì e fare qualcosa è un po' un lavoro fatto a metà a mio parere quindi è bello da quel punto di vista vorrei anche io qualcuno che mi fa uno dei nostri collaboratori Gabriel che ci sta invitando stasera mi ha portato un bel te a caldo anch'io voglio del te a caldo dimmi se fa il giro in trentino e me lo viene a portare dai per favore io sono molto d'accordo tra l'altro io penso che i social abbiano un potenziale straordinario e soprattutto quello di battere la tv no esatto c'è la questione tu hai detto possono fare cose bellissime cose terribili sicuramente possono fare cose bellissime terribili più di quelle che sta facendo la televisione o i giornali io non credo in questo momento il mio disgusto per quello che è l'informazione televisiva e giornalistica è ad un livello tale che io non credo che sui social si possa fare peggio ed è una maturazione che ho avuto perché una volta ero convinto che no beh insomma lo schifo che trovi sui social le pagine di complottismo quelle pagine che diffondono le fake news sui migranti per fare due click dalla gente indignata sono comunque i giornali una parvenza di serietà non è vero non è vero ne inventano di più cioè il livello del giornalismo italiano è una roba veramente abissale e quindi e se c'è una cosa che a me veramente fa cadere sempre le braccia è come poi il media come la televisione o il giornale demonizza così tanto il nostro mondo da quel punto di vista che a me fa veramente cadere tutto quanto perché dico cavolo veramente ci sono tante persone che cercano di rendere questo posto qualcosa di bello qualcosa che veramente da cui puoi attingere e dire cavolo c'è qualcosa di incredibile qua dentro però alle volte viene sempre visto come ah avete visto ci sono i videogiochi e i videogiochi ammazzano la gente sì oppure qualche anno fa quando era appena un po' iniziata la febbre per TikTok che c'erano i giornali che dicevano che c'era la Whale Challenge la Blue Whale Challenge era su TikTok? mi sta di sì non ricordo neanche se esisteva TikTok alla Blue Whale Challenge no la Blue Whale era vecchiotta era vero più vecchia comunque si era si erano inventati sta roba che tutti i giovani adesso fanno questa challenge dove la metà finisce nell'altro mondo sì c'era la challenge della Blue Whale ma se vuoi ti dico anche chi era chi ne aveva parlato in tv inventandosi completamente la storia della Blue Whale perché non è proprio un nome nuovo a questo tipo di balle è quello dei cosi di Fukushima? no è Matteo Viviani lei è ah sempre lui quello che è ogni tre servizi che fa una persona si suicida però ma è ottimo non così vale giusto tenerselo in redazione perché ma secondo voi la televisione fa questa cosa perché ha paura del social o perché proprio non lo capisce? non lo capisce vero? zero non lo capisce le redazioni giornalistiche e televisive sono composte da gente che se sono giovani hanno più di 60 anni e non sto scherzando ragionano con quei criteri lì quindi non hanno idea di cosa siano i social network ragionano il loro pubblico è quello e in Italia la demografia li avvantaggia e però aspetta noi siamo riduci dall'aver visto Boris che ci dà un insight su quello infatti Boris c'è la serie di Boris a parte l'ultima ma forse anche l'ultima non spoileriamo l'ultima cioè la serie di Boris no chiedo ancora a finirla non fatelo la serie di Boris descrive la realtà cioè la televisione italiana funziona in quel modo lì non c'è niente di inventato sì però la cosa che cercavo di dire è che chi è al vertice non è clueless cioè non è che proprio non capisca il social eccetera più che altro ha un target di riferimento e non lo vuole non si vuole staccare non vuole lasciare il morso e quindi per forza produce roba solo per loro ignorando il resto poi tutti i verbi che ne derivano secondo me sono un po' di battibecchi che finché diciamo la generazione a cui la tv si rivolge non naturalmente abbandona il campo io mi ricordo non si non cambierà niente finché proprio la cosa non va via in maniera fisiologica io mi ricordo un mio amico che fece uno stage presso il giornale italiano che il primo giornale italiano per numero di copie che non è il Corriere della Sera come pensano molti ma è la Gazzetta dello Sport si e il adesso non mi ricordo più ma se fosse il direttore o il vice direttore insomma comunque un pezzo grosso che gli chiese visto che lui era giovane e smanettava coi computer di trovare il modo la premessa bello questo qua questo mio amico tipo laureato in giudisprudenza ma comunque si so usare il computer perché li uso ok tutto il giorno tutti i giorni ma non sono un programmatore comunque questo qua voleva il modo di fregare l'algoritmo di Facebook ovvero se tu clicchi la notizia della Gazzetta dello Sport da Facebook lui ti apre ti va sul sito della Gazzetta dello Sport da Facebook come dire sei ancora dentro Facebook ma hai aperto la pagina della Gazzetta dello Sport si non sei nel browser che te lo registra esatto quindi cosa succede che tecnicamente quella lettura di quella pagina conta per Facebook e non per la Gazzetta dello Sport e questo tizio questo direttore voleva che il mio amico che smanettava coi computer trovasse il modo di fregare questo algoritmo non è un algoritmo in realtà a parte il fatto che per fare queste cose qua per ottenere questo risultato qua Mark Zuckerberg ha probabilmente preso i 10 migliori laureati in informatica di Yale e gli ha dato 10 milioni all'anno tu prendi un tizio che solo perché lo vedi dietro un portatile e pensi che sei in grado di fregare Facebook cioè questo è il livello di comprensione della materia del direttore dei pezzi grossi dei giornali italiani però se io posso cioè se c'è una cosa che io ho notato negli ultimi negli ultimi tre anni io ormai sì faccio questa cosa da tre anni ed è abbastanza pazzesco è che fortunatamente almeno lo noto su TikTok poi per il resto non lo so ci sono molte più persone che fanno qualcosa di interessante su TikTok e non qualcosa di così leggero e sono aumentate e questa è una cosa che mi dà un pochettino speranza poi io sono abbastanza un inguaribile ottimista e quindi su questo vabbè gioco sporco però non lo so mi ha confortato il fatto che c'è sempre ma anche io devo dire che cioè passando passando veramente un sacco di tempo anche malato su TikTok però come dire la come dire la cosa che critica chi magari ha appena scaricato TikTok o chi non vuole TikTok è che oh mio Dio la prima cosa che vedo su TikTok quando arrivo sono i balletti sono le canzoncine sono le cose sceme in realtà poi la cosa in cui TikTok è lo social migliore è l'algoritmo che sei educato bene capisce i tuoi gusti e ti inizia a consigliare le robe per i tuoi gusti e non solo perché non ti fa poi restare in una bolla vera e propria in realtà continuo poi a consigliarti delle cose un po' extra e poi in base a quello diciamo una percentuale dei contenuti è extra rispetto alla tua bolla mentre la tua bolla è educata bene e comunque ti iniziano ad arrivare un flusso di contenuti di tuo interesse e puoi anche consigliarti le cose e devo dire che dopo aver educato bene il mio algoritmo almeno quando entro con l'account di Avvocato del Lato ho una serie di robe iper interessanti una dietro all'altra cioè una serie di content creator che sono veramente verticali magari su un argomento però proprio perché nella loro verticalità e individualità che TikTok premia moltissimo a livello di algoritmo riesce a vedere un stacco di roba che magari anche YouTube forse non è così tanto non è altrettanto bravo a farti vedere poi YouTube è molto meglio per tantissime altre cose YouTube e TikTok sono due social differenti su YouTube vai a cercare quello che vuoi vedere su TikTok è quello che vuoi vedere che in teoria dovrebbe cercare te è un po' esatto bravi ad accogliare queste cose qua su TikTok infatti non a caso venire da un paese comunista no? perché c'era il meme in Soviet Russia è vero no la cosa la cosa che però secondo me ha un po' destabilizzato TikTok è sul fattore numeri veramente ci sono delle delle cifre spaventose da quel punto di vista e che alcune gente ha fatto alcune persone le ha fatte andare totalmente fuori di testa perché ci sono delle persone che vivono per il numero ed è una cosa che secondo me è un atteggiamento dei più sbagliati che ci possa essere perché io faccio una cosa perché piace farle a me in primis perché se no non le farei però ci sono tantissime persone che su un social come TikTok si sono distrutte perché ho fatto questo video non è andato bene vuol dire che fa schifo ne faccio tutta un'altra cosa ora e cazzo è un po' deprimente nel senso che a volte succede che al TikTok cambi gli algoritmi per cui fai la stessa cosa che hai fatto fino a due giorni prima e hai un calo di views gigante però in realtà se tu continui a postare poi magari l'algoritmo cambia di nuovo e il video che aveva duecento views ti riparte però da un certo punto di vista chi se ne frega cioè io sono un po' dell'idea che basta chi se ne frega se io ho voglia di fare un video mi metto lì lo faccio e lo metto su TikTok che mi vada bene o che mi vada male è veramente sembra il discorso del buon samaritano però in realtà che lo veda cinquecento persone o che lo vedano un milione mi cambia poco perché se a quelle cinquecento persone o cento o cinquanta il video è piaciuto e se lo sono guardati tutto ho fatto qualcosa almeno a quelle cinquanta persone io ho fatto qualcosa ed è bello è proprio bello secondo me ma io sono d'accordo soprattutto in ogni caso non credo che neanche le conseguenze peggiori di TikTok o degli altri social possano uguagliare i danni fatti dalla televisione cioè quando tu mi dici ci sono persone che si sono distrutte su TikTok perché i loro video non avevano visualizzazioni sì ci sono anche quelli che si sono andati a incatenare davanti alla casa del grande fratello perché al decimo provino non li facevano entrare li prendi li chiudi in uno zoo li esibisci come scimmie non ne frega niente però cazzato nero cagato fuori dal vaso ci sono sempre ci sono sempre ci sono sempre quelli come dire che hanno delle difficoltà chiamiamole in Frankenstein Junior c'era il cervello abinorme ecco quelli hanno il cervello abinorme e come dire ci sono su TikTok come ci sono sulle tv e quant'altro però vorrei rispondere a quelli che hanno detto i terrapiattisti in tv vengono schermiti sui social infestano ovunque io non li vedo così tanto sui social sono nelle loro bolle sono quattro gatti esatto è una questione delle loro bolle cioè idem con i Novax non è vero i Novax sui giornali sono ovunque hanno un loro giornale che vende un sacco di copie che è la verità hanno un altro giornale che pubblica costantemente contenuti Novax che è il fatto quotidiano tutti i giornali italiani per vendere più copie sono più che disponibili a pubblicare contenuti che strizzano l'occhio ai Novax ricordiamo sempre il titolo di Repubblica anziano muore investito da un autobus dopo aver fatto il vaccino quindi non è vero i Novax fanno molto più danno sui giornali in tv che su internet perché sui giornali in tv hanno una parvenza di rispettabilità maggiore e c'è ancora questa cortina di oddio è sulla televisione vuol dire che è bravo che si è un po' perso però sempre di più sempre più gente soprattutto cioè secondo me è proprio una questione generazionale sempre più gente della nostra età e sempre più giovane guarda sempre meno la tv la quantità di tempo che puoi passare a come dire per l'intrattenimento è tra virgolette limitata è chiaro che se sei un ragazzo della nostra età passi molto meno cioè passi molto più tempo sul cellulare sui quattro social a disposizione piuttosto che poi dedicare l'ultima fetta di tempo anche alla tv e poi ai netflix che poi ti offre tutto quello che ti ha i ragazzi i ragazzi anche della mia età cioè quelli che guardano la televisione si contano sulla punta delle dita adesso non veramente e meno male e meno male perché io un canale tiktok o youtube o un account instagram o facebook o twitter che porti con la stessa efficacia nelle case degli italiani la propaganda di alessandro orsini non l'ho ancora trovato non è vero questo è vero quindi un alessandro orsini che va su rai 3 tutte le cazzo di settimane a carta bianca fa più danno da solo di tutti i social network italiani perché account così smaccatamente filorussi con la stessa credibilità di carta bianca non esistono ci sono account filorussi è pieno ma sono diego fusaro e diego fusaro lo vedono tutti che è un povero demente è che sui social hai la possibilità di commentare di scrivere di far sapere agli altri cosa ne pensi sulla televisione passa e chi la signora che è lì in soggiorno sta guardando quel programma l'ha recepita questa cosa non ha altri commenti perché commenti non esistono in televisione e quindi assimila quello che sta sentendo è molto più pericoloso è vero quello è vero forse bisognerebbe anche riflettere sul fenomeno delle bolle è vero che magari i social favoriscono la creazione di bolle dove te la canti te la suoni però avvengono anche gli scontri fra bolle quindi bolle piccole come quelle magari dei Novaks o che ne so alla fine sono cioè sono piccole bolle però poi quando vanno a scontrarsi con bolle più grandi ci sono le cosiddette shitstorm quindi di fatto c'è una sorta di potrebbe essere che alla lunga sì però alla lunga magari c'è una sorta di anticorpo come dire nel meccanismo stesso di esistenza di internet e delle bolle per cui il danno che poi vai a verificare sulla società vero e proprio è limitato rispetto al meccanismo della tv che è letteralmente un altoparlante da cui tutti vanno ad abbeverarsi cioè la bolla no ma poi in realtà ci sono le bolle anche in tv cioè all'epoca quando io avevo l'età di Giacomo c'era la bolla di quelli che guardavano Mediaset c'era la bolla di quelli che guardavano però non si scontravano mai se non al bar si scontravano al bar però qui c'hai delle piattaforme enormi che poi possono finire a scontrarsi il fatto è che lo scontro adesso è quello che viene ricercato se vogliamo in tv tantissimo perché perché viene invitato vengono invitati questi personaggi di cui si parlava prima perché crea uno scontro con le altre persone che sono invitate e questo crea share perché ci si fa i dissing sui social che è una cosa che non capirò mai ma vabbè per il mio pensiero ma questo è un dettaglio perché porti un pubblico da una parte un pubblico dall'altra si scontrano a che bello comunque hai visibilità la brutta pubblicità è sempre pubblicità però è tutto un discorso che secondo me svilisce tutto il racconto che viene fatto di un qualsiasi argomento perché se tutto viene a relegarsi sullo scontro non si crea mai un momento di sintesi citando Hegel creando un qualcosa una nascita di un confronto positivo ci si va a battere contro e mi viene in mente anche lì sempre nell'ottica di tiktok c'è questo bellissimo strumento che è lo stitch che la gente usa in due modi e tendenzialmente la gente lo usa per dare la propria opinione sul video che qualcun altro ha fatto in precedenza alcune volte magari lo vedo spesso nel campo dei nutrizionisti c'è persona che dice una cavolata sul tema nutrizione arriva il nutrizionista e fa il debunking però magari lo fa in maniera antagonista come dire poi ho visto persone che stimo da cui vorrei imparare io stessa perché questo difetto lo so di avercelo che prendono quello che magari una persona racconta che dice completamente scannando tutto però sfrutta quell'occasione per rieducare tra virgolette su quell'argomento lì in maniera molto calma e tranquilla cioè anche lì è questione di come usi questo strumento qua usi lo stitch per fare un esempio di un errore e correggere l'errore poi puoi correggerlo facendo dissing o puoi correggerlo facendo un approfondimento ben strutturato e civile ed educato non so se l'hai mai aiutato lo stitch tra l'altro no in realtà no io mi sono sempre imposto la cosa di essere innanzitutto il più preciso possibile perché io ma sicuramente la vivrete anche voi questa cosa non ho dubbi io ogni volta che sto per postare qualcosa devo veramente mettermi nella mia stanza dello spirito del tempo e capire se quello che ho detto è effettivamente corretto io me la sento molto questa responsabilità perché ci sono tante persone che seguono quello che dico e io non permetterei mai a me stesso di dire delle cazzate ok non ce la farei mai a perdonarmi questa cosa perché sento una certa responsabilità e quindi da quel punto di vista mi dico nel mio piccolo nella mia bolla in cui parlavamo prima vorrei essere il più preciso possibile così da non ricevere precisazioni in tal caso certo assolutamente aperto al confronto ci mancherebbe però così faccio l'informazione prendere un contenuto che è oggettivamente sbagliato e dire ah guardate lui è stupido andiamo a andiamo a bruciargli la casa no è un po' un atteggiamento che io non farei mai ma non perché non bisogna criticare le cose stupide ma perché secondo me è più costruttivo creare nelle persone quello spirito critico per far capire loro stesse che quella cosa lì è una cazzata senza dovergli dire guarda questo è brutto e stupido bisogna cercare di creare una coscienza comune su un social soprattutto come TikTok che di community scarseggia per cercare di veramente creare una un'idea di base che tutti possiamo dire quello che vogliamo ma tutti abbiamo il dovere di dire qualcosa di corretto fondamentalmente perché se no a lei è la corrida secondo me cioè è interessante quello che dici perché è un po' diverso da come la penso io nel senso che io trovo la correzione trovo che si debba fare un lavoro su quello che è il concetto di correzione se io prendo il contenuto di una persona che dice qualcosa di completamente sbagliato dobbiamo fare secondo me lo sforzo di capire che la critica che faccio non è alla persona ma è al contenuto e nel fare io la critica devo stare attenta a far passare il messaggio che non sto criticando la persona e la persona che riceve la critica ma lo dico anche per me quando riceviamo critiche sempre quando ricevi la critica devi fare lo sforzo di non prenderla sul personale cioè di capire che la critica non equivale a una critica alla tua persona ma a quello che hai detto che la tua identità non dipende dalla correzione che io ti ho fatto e che anzi bisogna bisogna chiedere la correzione bisogna secondo me potremmo evolvere molto più velocemente come civiltà se imparassimo a vedere nell'errore una possibilità di crescita e non una critica all'identità cioè come dire all'ego se io prima o poi dovessi ricevere una critica come so uno stitch di un fisico più grande perché poi tra l'altro io faccio i contenuti su tiktok ma ogni roba la faccio revisionare sempre a lui però se dovessi la faccio ce la metto io ricevo la critica da parte di un fisico e sono io stessa che mi dirò devo fare io lo sforzo di capire che questa persona non ha criticato me Luisa come tizia ma Luisa ha detto una cavolata ha esposto un concetto errato la critica viene fatta su quel concetto secondo me va allenata questa cosa perché anche contro intuitiva ci viene poco naturale però secondo me gestita nel modo corretto ci permette di andare avanti e di accumulare una conoscenza più corretta in maniera più veloce rispetto a un tentativo di essere estremamente delicati nell'affrontare gli argomenti però bisogna vedere cosa funziona meglio anche voi vivete anche fate una cosa molto più complicata della mia è molto più difficile perché voi portate avanti quello che divulgate quello di cui parlate attraverso dei dati e tantissime persone che magari non sono informate sui dati o peggio leggono dei dati che non sono corretti e che quindi li interpretano magari come vogliono loro si arrogano il diritto di poter dire quello che vogliono dalla mia parte dalla parte storica è un pochettino più facile perché io non è che posso dirvi ah non è vero che Napoleone ha invaso ha fatto la campagna d'Italia Napoleone è andato a conquistare l'Etiopia che dice non funziona così è molto più difficile creare la super super dissing storico perché alla fine quello è invece sui dati è un pochettino più altrenante perché uno magari se li va a interpretare se li va a leggere come vuole lui e si fa una sua visione è un pochettino meno specifico forse poi magari sbaglio sto dicendo una cazzata no no credo che sia vero credo che dipenda anche dal fatto che in Italia si studia molto poco matematica a scuola e quindi molto spesso le persone non sono in grado di interpretare correttamente un dato eh ma proprio per questo a me spaventa il fatto che si arrogano il diritto di interpretarlo il dato cioè questa è una cosa ma perché esatto non sono consapevoli di non aver studiato abbastanza matematica a scuola e quindi magari ti tirano dei dati cioè ti presentano magari loro un dato che è frutto di un palese selection bias o survivor bias o strowman fallacy o come si chiama sharpshooter fallacy e perché non hanno studiato la base minima di statistica non sono in grado di capire che quel dato non ha nessun senso presentato in più no allora sono le 23 e 29 e ridendo è come il tempo quando ti si diverte e vola allora io volevo chiedere a Giacomo di concludere questa live raccontandoci un aneddoto storico curioso di quelli che conosce solo lui e che mette sul suo canale uno che ti piace anche uno che il primo che ti viene in mente nel panico no vabbè così giusto come saluto per far capire ai nostri spettatori che tipo di contenuti pubblichi sul tuo canale e invitarli a seguire oddio mi stai facendo una cosa difficilissima sto pensando sto pensando un sacco beh una storia che a me ha sempre divertito è la storia di Mike non so se la conoscete che è una storia che è veramente non c'entra niente con la storia in generale però fa capire come la storia abbia delle chicche che sono pazzesche che ovviamente a scuola non vengono studiate perché non hai il tempo e non è magari interessante per parlare allora cosa succede è una storia un pochettino strana ma a me piacciono queste cazzate Mike era un pollo ok era un pollo un po bianco un po lo normale è nato nel 1945 anno molto fortunato cosa è successo nel 1945 proprio aveva poco meno di un anno questo pollo viveva nella sua fattoria in America la moglie del fattore sembra una storia di un racconto per bambini poi in realtà diventa molto più cruenta la moglie del fattore dice al fattore di questa di questa fattoria amore vai a ammazzare il pollo che è nato da un anno perché ce lo facciamo a pranzo è domenica facciamo un pranzone facciamo qualcosa di buono il signor fattore scende nel giardino prende il pollo prende un'accetta e fa per tagliare la testa al pollo perché bisognava farlo per pranzo che succede che i polli anatomicamente hanno il cervello un attimino spostato indietro non è proprio davanti dove c'è il becco un attimino più indietro il fattore tagliando la testa al pollo è riuscito a tagliargli la testa più avanti rispetto al cervello così che il pollo aveva ancora il cervello attaccato al corpo ma non aveva più la faccia perché era saltata via quindi non aveva il becco non aveva niente ed era collo ok i polli solitamente vivono un pochettino dopo che gli hai tranciato la testa hanno questa peculiarità questo super potere magico non ne ho mai visto uno non ci tengo ma insomma solo che questo fattore ha visto che questo pollo non moriva oggettivamente allora ho detto che succede che faccio non moriva passano un po' di ore non muore questo pollo va in giro tranquillo senza la testa mike che facciamo amore il pollo non è morto lo ammazzo davvero no no amore cosa fai e cosa facciamo portale in giro per l'america allora questo fattore per due anni dal 45 al 47 ha preso il suo bel pollo mike e ha girato per tutta l'america faceva pagare mezzo dollaro a persona per andarlo a vedere ha fatto un mucchio di soldi e lo nutriva con una pipetta direttamente dalla trachea che gli spuntava dal collo a questo povero mike che è diventato un po' un fenomeno spero dall'esofago e non dalla trachea ha cercato di ucciderlo diverse volte ma continua esatto dall'esofago esattamente e questo pollo ha continuato a vivere a giro se pollo era cieco sordo non aveva il senso dell'olfatto e anche tipo respirare lo faceva in maniera un po' con la trachea si respirava direttamente dalla trachea esattamente però viveva perché aveva tutte le facoltà per farlo e a un certo punto però tra l'altro non è morto di cause naturali è morto perché il fattore si è dimenticato di dargli da mangiare una volta ed è morto ma gli americani sono dei pazzi furiosi perché ancora oggi credo in colorado non ne sono convinto ma andate a controllare nella patria del pollo mike che ci ha lasciato nel 1947 si fa ancora oggi una bellissima festa dedicata a mike il pollo senza testa ci sono delle foto vi invito ad andare a vedere ci sono i gonfiabili di un pollo senza la testa c'è il bellissimo gioco attacca la coda dell'asino all'asino che non è attacca la coda ma attacca la testa di mike a mike non sto scherzando succede questa cosa mi ricordo che avevo letto di questa festa dove c'è un super bersaglio enorme al centro di un campo e vince il cane che fa la cacca al centro del bersaglio questa è l'idea degli americani di questa cosa è bellissimo cosa c'entra con la storia niente ma secondo me ci fa capire come la storia è piena di cazzate divertentissime che possono veramente dirti raga bello 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 la storia può essere bella non parlo solo di roba tristissima sul mio però mi diverto come un matto noi ringraziamo Giacomo Panozzo con il quale è stata una bellissima conversazione sappi che quando vuoi tornare sei il benvenuto se volete tornare in più di uno a presentarci anche questo vostro progetto influencer perché no noi siamo molto lieti di contribuire a fargli pubblicità perché questo è tutto quello che possiamo fare e no io ringrazio anche voi che mi avete invitato perché mi è piaciuto io neanche mi sono accorto adesso passate due ore mi è piaciuto un sacco chiacchierare con voi è stato proprio bello quindi spero che ti possa ricapitare un'altra volta davvero vedo che è piaciuto anche in chat spettacolare ah scusate le foto sono un po' sì forse dovevo avvisare che le foto sono vabbè non penso ci sia gente impressionabile qua ok comunque la live ha riscorso anche un discreto successo sarà ripubblicata su youtube come al solito tra qualche giorno quindi poi ti mandiamo anche il link se vuoi condividerla sui canali e niente io auguro a tutti gli ascoltatori gli spettatori una buonanotte che noi domani mattina seguite Giacomo e seguite Giacomo grazie grazie davvero ciao a tutti ciao 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 ciao